Grazie. Possiamo cominciare. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti, intanto grazie di essere qui per questa mattinata di lavori. Io sono Marco Gisotti, sarò il moderatore e il conduttore di questa mattinata. Stiamo cominciando come di prassi con qualche minuto di ritardo, ma è giusto perché le persone arrivano anche alcune da molto lontano. E cominceremo, la mattinata è abbastanza intensa, però credo che lo troverete molto interessante, sia per il tema sia per i relatori nostri ospiti. Io subito vi inviterei a prendere posto al tavolo, i nomi li vedete già esposti, li chiamerò in ordine di relazione, che non vuol dire per forza ordine di importanza, come dicono gli anglosassoni. Quindi inviterei a salire il dottor Giuseppe Blasi, del Ministero dell'Agricoltura e della Sicurezza Alimentare, utilità di gestione per il piano strategico della PAC, quindi Roberto Giarola, della Protezione Civile, direttore ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso, il dottor Salvatore Carfi, direttore dell'organismo di coordinamento, e ultimo, ma non ultimo, il dottor Livio Proietti, commissario straordinario Ismea. Tanto grazie e benvenuti. Il tema, come sapete, è quello della nuova architettura della gestione del rischio nel piano strategico della PAC 2023 e 2027. Io dirò soltanto una parola, poi saranno i nostri ospiti a entrare nel dettaglio, poi dopo di loro avremo una sessione di tavola rotonda con le regioni, con i territori, perché evidentemente, come dire, l'importanza che il nostro ordinamento dà alle regioni ci rende importante capire attraverso, non possiamo ascoltarle tutte quante le regioni, non possiamo fare una tavola rotonda di 20 regioni tutte insieme, ne ascolteremo tre, però come casi studio, anche per confrontare e confrontarci con loro. È evidente che il piano, come dire, la prospettiva che fino a qualche anno fa avevamo nel nostro territorio, forse nel nostro pianeta, è cambiata. Sono cambiati gli eventi meteorologici, è cambiata, come dire, la tipologia di eventi, quando accadono, come accadono, la maggiore pianosità, la siccità. Senza neanche volessimo ricorrere a dati di misurazione scientifica, che ce ne sono, basterebbe vedere il meteo quotidianamente, vedere le notizie di cronaca. L'anno scorso le immagini, come dire, di un po' in secca facevano impressione, sembravano quelle del film di Virzi, dove si vedeva il Tevere in secca, e poi pochi giorni dopo, poche settimane dopo, eventi alluvionali devastanti. E chiaramente colpiscono i cittadini, colpiscono l'agricoltura, che è il settore primario, spesso nella cronaca l'agricoltura forse non merita, non riesce ad avere il giusto spazio di attenzione. Si parla tanto del digitale, si parla tanto di altri settori, ma dimentichiamo che l'agricoltura è la nostra base, è il cibo. Poi è vero che si integra con altri settori, le competenze digitali, le competenze green, le competenze di cittadinanza, eccetera. Con i nostri ospiti affronteremo tutto questo, sapendo che oggi c'è uno strumento nuovo, che è Agricat, che cambia un po' la prospettiva di approccio, forse molto più che un po', perché è effettivamente uno di quegli strumenti innovativi che vanno a intervenire e ci danno una strada su come andare a risolvere dei problemi che oggi non possiamo più ignorare, che non possiamo più semplicemente agire come se accadessero una volta ogni tanto. Però io mi taccio, loro vi spiegheranno tutto questo molto meglio di quanto non possa fare io in queste due parole, che sono soltanto di saluto e di introduttive. e io vorrei cominciare proprio con il dottor Blasi e proprio parlando del nuovo approccio degli interventi di risk management nel piano strategico della PAC. Quindi entriamo subito nel vivo, dottor Blasi, le passo volentieri la parola. Pronti? Perfetto. Grazie. Buongiorno. Cercherò di fare un quadro della situazione partendo dagli elementi dell'attualità e poi per dare anche un segno alla giornata di oggi che vuole essere una giornata di confronto su temi di grandissima attualità, come ci diceva il moderatore, e su cui si stanno concentrando tutta una serie di attenzioni anche a livello di attivazione di strumenti innovativi rispetto a quelli tradizionali. Quindi non entro nel tecnicismo sugli strumenti che abbiamo già attivato e su cui poi parleremo tutto il giorno. Quindi in particolare l'assicurazione di volate e Agricat che sono il pacchetto di strumenti più importante mai attivato dal nostro Paese che fa riferimento ai fondi comunitari, fa riferimento anche a strumenti molto innovativi come quello dei pagamenti diretti che concorre. Quindi sono tutte cose che sappiamo. Attraverso questo pacchetto di strumenti noi mettiamo a disposizione del settore circa 700 milioni di euro all'anno che è una cifra importantissima mai attivata. Però ci rendiamo conto che purtroppo sta diventando insufficiente perché le problematiche a cui dobbiamo far fronte sono tantissime. E allora cosa succede intorno? Succede che anche a livello comunitario ci si interroga se per quanto riguarda la nostra filiera poi per la parte protezione civile ci penserà l'amico avvocato Giarola che segue tutta la parte relativa al fondo di solidarietà europeo che non gira attraverso i fondi della PAC se la politica agricola comune è attrezzata per poter far fronte a una variabilità delle condizioni agroclimatiche che mettono sempre più a rischio il reddito degli agricoltori. Ieri stesso c'è stato un incontro molto importante a Bruxelles perché la Commissione si interroga se ad esempio la riserva di crisi della PAC è uno strumento, è una dotazione finanziaria che sta lì nel bilancio europeo circa 450 milioni di euro all'anno che però sono degli agricoltori perché se non viene utilizzata va negli strumenti ordinari dei pagamenti diretti. Se c'è una problematica la Commissione insieme agli Stati membri più la Commissione perché è la Commissione che l'attiva attraverso un regolamento di esecuzione decide di prelevare da questa dotazione da questa riserva di crisi e tecnicamente però attivare la riserva di crisi comunitaria che fa parte del FEAGA quindi del fondo del primo pilastro della PAC significa una riduzione dei pagamenti diretti agli agricoltori cioè questi soldi vengono presi per gestire un'emergenza ma si traducono, siccome fanno parte del bilancio agricolo in una riduzione proporzionale dei pagamenti diretti agli agricoltori quindi significa che è solo uno spostamento di risorse da un capitolo ad un altro ma non è una risorsa aggiuntiva che la Commissione mette a disposizione. Fino a due anni fa quindi fino al 2021 tutte le volte che è stata utilizzata questa riserva di crisi era per ragioni di mercato la riserva di crisi nasce per far fronte a problematiche emergenze di mercato quindi l'abbiamo utilizzata per il primo anno per la crisi russo-ucraina l'anno scorso è stata utilizzata in maniera un mix alcuni paesi l'hanno chiesta per emergenze di questo tipo e altri anche per emergenze di carattere meteoclimario quest'anno, quindi nel 2023 esercizio 2023 la Commissione l'ha autorizzata in momenti diversi ai vari Stati membri in parte per crisi di mercato legati a problematiche commerciali sempre legate alla guerra ma il grosso della riserva quindi 330 milioni su 450 l'ha messa a disposizione con un regolamento del giugno anzi luglio 2023 quindi due mesi fa per emergenze climatiche e quindi questo di fatto i maggiori beneficiari di questa dotazione sono stati il maggiore è la Spagna per la siccità per durante da due anni poi il Portogallo l'Italia e l'Italia sia per la siccità 2022-2023 e sia e soprattutto per l'emergenza all'ovione allora cosa succede? Succede che queste risorse che per noi ammontano a 60 milioni di euro di fondi comunitari poi cofinanziabili per il 200% ci hanno messo nelle condizioni di gestire una dotazione di 180 milioni di euro il Ministro ha dato indicazioni molto precise che ci hanno permesso di dare seguito a quello ad un provvedimento che stiamo ultimando e che abbiamo già presentato alle regioni informalmente in una riunione all'inizio di agosto e che adesso poi lo discuteremo in maniera più dettagliata in conferenza non appena avremo tutti gli elementi per poterlo fare attraverso questi fondi noi andiamo a compensare la siccità del 2022-2023 e l'alluvione in particolare Miglior Magna ma anche Marche e Toscana per le aree delimitate attraverso questo fondo quindi noi per la prima volta lo utilizziamo per emergenze di carattere agrometeorologico nel farlo non è una cosa così semplice perché la riserva di crisi siccome agisce su un bilancio di un fondo che va per cassa e scade il 15 ottobre ogni anno abbiamo dei tempi mostrosamente limitati in questo caso noi dobbiamo comunicare alla commissione cosa faremo con questi soldi entro il 30 di settembre praticamente dopo domani e dobbiamo spendere le risorse a disposizione entro il 31 di gennaio quindi questo ci ha messo nelle condizioni di non attivare sistemi procedurali aggiuntivi e finalizzati ma di agganciarci su procedure che erano già in corso ad esempio nel caso della siccità andiamo a integrare la dotazione che è stata già autorizzata dalle regioni per la siccità 2022 protrattasi fino al 30 aprile 2023 quindi integrando quanto già le regioni hanno concesso anche se non hanno pagato e quindi noi andremo a intervenire di sopra con una parte di questa dotazione e con un'altra parte andremo sui agricoltori quindi agricoltori non allevatori e non tutti coloro che non sono imprese agricole colpite dall'alluvione delle migliori romagni in questo caso andremo a intercettare le domande che nel frattempo sono state raccolte attraverso lo strumento agricat attivato a sua volta grazie all'articolo 12 della legge 100 del 2023 quella che si chiama norma sull'alluvione e nel fare tutta questa operazione noi dobbiamo prima di tutto assicurare uniformità coerenza e non sovracompensazione con gli altri strumenti disponibili cioè non sono cose banali sono cose delicatissime perché dobbiamo operare ovviamente cercando di essere tempestivi perché giustamente chi ha subito un danno anche irreparabile avere la possibilità di ricevere un ristoro anche parziale e la questione del tempo è fondamentale perché prima si arriva prima si mette nelle condizioni di poter fare delle operazioni soprattutto per chi ha avuto un danno irreparabile e poi dobbiamo lavorare in parallelo ad esempio con i colleghi della protezione civile anche perché tutti i dati e le informazioni che noi dobbiamo inviare a Bruxelles e per giustificare questo intervento che poi dovremo giustificare anche per evitare tutte le sovracompensazioni con i nostri si devono parlare tra di loro perché anche le modalità di lettura del territorio ad esempio sulla delimitazione delle aree colpite dall'alluvione la stragrande maggioranza delle informazioni sono disponibili là dove è visibile il danno dell'acqua perché abbiamo tutti i dati oggettivi telederivati che ci permettono di verificare dove è andata l'acqua quanto c'è rimasta e che tipo di danno può aver fatto ma tutta la parte collinare e montana delle aree colpite che sono invece interessate da frane e che hanno impedito anche la mobilità le pratiche culturali su questo non abbiamo dati oggettivi se non immagini satellitari recenti che devono essere però fotointerpretate e per leggere bene questo territorio abbiamo ingaggiato e mobilitato la struttura tecnica di Agricat anche se faceva personatura a un mestiere diverso perché lavora nell'alluvione non lavora sulle frane ma in questo caso la norma prevede di intervenire anche lì in maniera tale da avere un dato oggettivo da poter utilizzare per dimostrare che su quelle aree effettivamente il danno c'è stato tutto questo percorso ci mette nelle condizioni che e poi chiudo altrimenti monopolizzo troppo la situazione ci mette nelle condizioni di dover lavorare costantemente insieme lavorare nella raccolta di informazioni in maniera corrente con strumentazione adeguata scambiare le base dati di informazioni noi su questo poi probabilmente ne parlerà anche Roberto per questa ragione abbiamo promosso e la protezione civile ci ha dato questa grande possibilità una convenzione a 360 gradi su tutti i temi delle calamità naturali perché lavorare fianco a fianco con una base comune e scambiare le informazioni con tutti coloro che sul territorio sono in grado di fornire i dati ad esempio per completare la raccolta oggettiva dei dati dell'alluvione dell'Emilia Romagna ci avarremo in collaborazione sia con protezione civile sia con la regione delle informazioni foto interpretate con il supporto anche di Agricat da parte del servizio geologico della regione che sta facendo un lavoro di censimento delle frane quindi tutte le informazioni hanno un valore interdisciplinare e poter lavorare integrati diventa la strumentazione più importante e l'obiettivo più importante che dobbiamo raggiungere chiudo dicendo che da un momento di confronto come questo devono emergere delle indicazioni che ci mettono nelle condizioni di apportare gli aggiustamenti alla strumentazione che abbiamo ma che siano neutri da egoismi di patria anche perché tutta la strumentazione che abbiamo ci porta a fare una previsione di spesa che in questo momento va assolutamente ridimensionata quindi non sto parlando di cose che non conoscete perché se non mettiamo mano a questi strumenti andiamo la spesa diventa assolutamente fuori controllo e ci serve però una collaborazione costante sia da parte del mondo dei consorsi di difesa delle assicurazioni e da parte delle regioni perché non ci troviamo non ci possiamo trovare nella situazione in cui come è successo in passato quando si condivide un pacchetto di interventi poi in conferenza Stato-Regioni si alza su qualcuno all'ultimo momento quando il potere negoziale è zero perché dobbiamo assolutamente approvare il provvedimento altrimenti la campagna assicurativa non parte quindi saltare un mese perché la conferenza non si esprime è un danno clamoroso perché poi diamo degli alibi a tutti per non far partire il sistema le assicurazioni dicono che non c'è il piano i consorsi non sono pronti cioè queste cose non possono succedere quindi sto parlando soprattutto ai colleghi regionali una volta che abbiamo deciso il sistema evitiamo di smontarlo per egoismi personali territoriali perché voglio avere leggermente di più e facciamo più sinergia con l'alto strumentazione a disposizione grazie 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 a lei che ci ha inquadrato come dire in una prospettiva europea ma anche della complessità del tema perché appunto è una complessità strutturale ma anche una complessità giuridica finanziaria non semplice e non sempre gli strumenti a disposizione sono stati a suo tempo pensati in maniera così diciamo agile un tema importante che ha portato anche poi a un protocollo con lo stesso ministero è quello della protezione civile Roberto Giarola ricordo direttore dell'ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica legislativa e del contenzio della protezione civile ci aiuterà a entrare un po' nel dettaglio di quella che è la gestione del rischio per la protezione civile ma anche per l'agricoltura perché perché integrare questi due aspetti come abbiamo già capito ed è il motivo poi di questa mattinata e oggi come dire non è un'opzione non è qualcosa che possiamo sperare è qualcosa che sta già accadendo e che è necessaria prego intanto ringrazio Giuseppe perché nel suo intervento ha fornito un sacco di spunti utili allora il sistema di protezione civile italiana è costruito in maniera particolare mi soffermerò un attimo su questo solo perché in realtà è una cosa che tendiamo a dare per scontata ma che scontata a ben vedere non è vale a dire che di questo sistema sostanzialmente tutti i soggetti che sono in questa stanza fanno parte in maniera attiva che siano soggetti istituzionali come il ministero soggetti tecnici le rappresentanze regionali e anche voglio dire le categorie che sono state citate ed evocate qui quindi la parte imprenditoriale del paese perché quando Giuseppe Zamberletti disegnò la protezione civile alla fine degli anni 80 aveva chiara questa visione cioè l'Italia è forse più di altri comunque lo è di sicuro il paese della frammentazione il paese dove l'amministrazione lavora un po' per silos e questa dinamica discutibile secondo noi anche inordinario probabilmente potremmo essere quasi tutti d'accordo che non è l'ideale già inordinario in emergenza diventa insostenibile e insopportabile perché nell'emergenza i tempi si concretano si ristringono si concretizzano l'esigenza di dare risultati e risposte in tempi che non sono quelli normali allora se questo è il tema è chiaro che il sistema di protezione civile disegnato nel nostro paese non poteva essere semplicemente un sistema emergenziale perché così fosse stato sarebbe stato assolutamente poco efficiente poco utile la protezione civile diciamo viene agli onori della cronaca onori o disonori dipende dalle situazioni ma comunque viene richiamata alla memoria di tutti i nostri concittadini tendenzialmente nei momenti critici quando si verificano situazioni di emergenza in realtà la nostra capacità di dare risposte efficaci in quel contesto dipende da quello che siamo riusciti a fare prima non a caso il sistema di protezione civile disegnato appunto alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 è un sistema che parla di previsione e prevenzione dei rischi di gestione e superamento dell'emergenza non solo la seconda parte è chiaro per tutti questo forse no in generale nel senso che è sicuramente una caratteristica nostra quella come dire di cercare di lavorare appunto ognuno un po' in casa sua noi che siamo una casa piccola perché lo strumento di coordinamento del sistema nazionale è un dipartimento della presidenza del consiglio fatto di poche persone che chiaramente non può avere l'aspirazione di essere la cavalleria che viene chiamata interviene risolve i problemi è in realtà uno strumento di coordinamento opera molto complessa nel momento in cui la frammentazione delle attività delle competenze è così elevata faccio qualche esempio per rendere chiaro il tema spesso viene evocato l'intervento della protezione civile nella risoluzione di problematiche che hanno radici molto strutturate nel tempo in scelte in decisioni che sono fatte ovvero che hanno radici in ambiti di competenze molto specialistici di cui noi sappiamo poco o nulla questo se il nostro sistema non è in grado di collaborare nella fase preparatoria di costruzione degli strumenti crea enormi problemi perché io dico sempre il nostro ufficio legislativo non è tanto diciamo così un ufficio dove si fanno sofisticate lucubrazioni giuridiche noi siamo un po' dei meccanici ci vediamo più così smontiamo e rimontiamo smontiamo delle cose che esistono che sono state tendenzialmente pensate indifferentemente dal momento cruciale dell'emergenza le smontiamo proviamo a mettere tutti gli ingranaggi sul tavolo e a rimontarli in modo che funzionino in maniera più semplice più veloce più lineare il che ripeto non è sempre semplice quando il pensiero che ha portato a quegli strumenti non è un pensiero che contemplava l'evento dell'emergenza come una evidenza possibile regolare l'ordinario e regolare la straordinarietà sono senz'altro due cose diverse ma per regolare l'ordinario io dovrei sempre avere in mente che quell'ordinario che sto andando a disciplinare in qualche modo poi ci sarà il momento fatale in cui dovrò farlo funzionare più rapidamente più velocemente in meno tempo e se questa cosa non è stata pensata prima la nostra azione talvolta è faticosa sui temi dei rischi ambientali questa difficoltà emerge in maniera clamorosa clamorosa perché noi abbiamo una normativa una legislazione estremamente complessa articolata io non dico che la complessità sia un disvalore perché se quelle cose sono state scritte dal nostro regolatore se noi abbiamo costruito dei ragionamenti di certo genere sono certo che ci sia un motivo e ci sia la corretta valutazione dei valori in campo degli interessi in campo ma tendiamo a dimenticarci di lasciarci una uscita d'emergenza e se questa uscita d'emergenza deve essere improvvisata alla fine del percorso è sicuramente più complicato ecco perché il dipartimento da tempo cerca di spostare l'attenzione di tutto il sistema di protezione civile quindi i livelli di governo sono il governo centrale le regioni gli enti locali e anche le parti tecniche non tanto sul tema della gestione emergenziale quanto sul tema dell'attività di previsione e di prevenzione perché non vuole essere una diciamo trita affermazione così di principio un wishful thinking ma perché se questo non accade veramente quando poi ci troveremo a doverlo fare nel momento emergenziale le difficoltà emergeranno e qui gli esempi si sprecano quante volte Giuseppe lo sa perché l'abbiamo sempre gestito insieme ci siamo trovati il ministero dell'agricoltura le sue strutture tecniche e la struttura di coordinamento di protezione civile a cercare di dare risposte a tematiche che afferivano all'ambito speciale specifico della parte agroforestale fitopatologie voglio dire non possiamo fare molti ricordi vedo che anche come dire se ne parlerà immagino che se ne parleranno poi colleghi delle regioni presenti in quel momento viene invocato l'intervento della protezione civile come se una specie di rullo compressore che arriva spiana tutto e miracolosamente risolve questa diciamo visione miracolistica è assolutamente priva di riscontro nella realtà e l'esperienza ci ha insegnato che tutte le volte che ci siamo mossi in maniera un po' troppo irruenta spesso abbiamo fatto anche degli errori perché l'esigenza di dare una risposta immediata in pochi minuti chiara e semplice ad una cosa che non nasce per essere chiara e semplice sostanzialmente a volte qualche problema lo porta questa cosa vale sia nella parte di preparazione quindi gli strumenti che noi vogliamo mettere in campo per la preparazione e gestione del rischio sia nella parte dell'intervento dico tre cose veloci su questo il primo è questo il protocollo che con il ministero abbiamo sottoscritto poco fa parla di scambio di informazioni e di dati perché uno dei punti chiave del sistema di protezione civile è che noi non nasciamo per duplicare o per rifare cose che altri fanno meglio di noi anche perché ci lavorano costantemente hanno competenze e capacità diverse ma noi nasciamo per raccogliere e mettere a sistema le informazioni che ci sono e le capacità che ci sono e gli elementi e i dati che ci sono questa attività di ricerca comprende un elemento di intelligence perché non sempre è facile scoprire cosa le varie soggetti componenti del sistema di protezione civile lo ribadisco stanno producendo diciamo che un po' di ritrosia a esporre i gioielli di famiglia c'è sempre nella nostra amministrazione però c'è un tema di attività di intelligence appunto di ricerca e poi c'è un tema pratico questo perché la visione è una visione sempre più integrata il mondo diventa più complicato ma diventa anche più veloce questi sono i due diciamo temi che influenzano molto la nostra attività della complessità ho detto della velocità è che oggi le dinamiche soprattutto economiche sono delle dinamiche per le quali uscire dal mercato per qualche mese per alcuni settori è insostenibile perché il mercato trova istantaneamente immediatamente delle soluzioni alternative cose che si potevano tempi che erano accettabili dieci anni fa forse io sono in protezione civile da un po' di anni quindi mi ricordo anche epoche diverse e oggi non sono più accettabili quello che si poteva fare in un anno oggi va fatto in un mese se non forse meno allora da questo punto di vista la capacità di concentrare l'attenzione non sulla gestione emergenziale ma sulla parte di previsione di prevenzione sugli strumenti che noi mettiamo su quello diventa fondamentale lo dico perché diciamo un momento di speranza che sono sempre fatto solo un quadro devastante è tipico della protezione civile ci occupiamo di disastri e quindi tendiamo ad avere una visione un po' negativa ma in realtà viviamo di auspici anche la visione per esempio di come rimettere a sistema le moltissime competenze che esistono nel nostro paese sugli aspetti meteorologici e climatologici era un'esigenza queste sono competenze che sono all'interno del ministero ma sono all'interno di altri soggetti che storicamente se ne occupano a partire dell'aeronautica militare i servizi meteorologici regionali io ho avuto la fortuna di esserci nel 1998 quando con il decreto legislativo 112 il cosiddetto federalismo amministrativo si lanciò l'idea di creare un servizio meteorologico civile che mettesse insieme non unicamente aspetti legati alla tematica militare che fino a quel momento erano totalmente esclusivi da allora ad oggi sono passati poco più di 25 anni di strada ne è stata fatta tantissima su questo oggi c'è un ulteriore passaggio c'è un'agenzia che si chiama Italia Meteo che è nata diciamo sta nascendo con non poche difficoltà con l'obiettivo di mettere a sistema esperienze capacità competenze per dare risposte a chi ne ha bisogno il mondo dell'agricoltura ha bisogno di un tema di previsione meteorologica diverso da quello che hanno bisogno i cittadini diverso anche da quello che gestiamo magari noi per la gestione del rischio che però è simile a quello che noi dovremmo avere per lavorare sui temi della previsione della prevenzione oggi dopo l'alluvione di maggio la grande alluvione di maggio dell'Emilia Toscana Marche il tema che anche il commissario straordinario si pone bene io devo intervenire su dei corsi d'acqua peraltro lo stesso tema che stavamo gestendo vedo che poi parlerà il collega dell'agricoltura della regione Marche già per l'alluvione di Senigallia di settembre ma se gli eventi che si sono verificati cambiano completamente la scala dei dati su cui i modelli idraulici dei nostri bacini sono stati costruiti che interventi devo fare che opere devo fare bene devo rifare il modello ma rifare il modello non è una cosa che si improvvisa è una cosa che richiede del tempo allora cercare di tenere insieme aspetti di complessità e aspetti di tempo per noi è un tema essenziale ultima parte su cui voglio fare solo un riferimento a quanto ha detto Giuseppe ed è il tema dell'intervento assicurativo la parte agricola specifica che abbiamo visto anche nella legge 100 è estremamente interessante perché oggi il tema dell'impatto delle calamità sul sistema economico produttivo è un tema fondamentale influenza lo sviluppo delle comunità influenza come le comunità possono riprendere le loro condizioni di vita o meno molto più che in passato il tema dell'assicurazione è un tema diciamo di cui si parla anche qui dalla fine degli anni 90 della cosiddetta assicurazione catastrofale il tema agricolo è più semplice forse perché interviene in un settore più specifico però una tematica generale è già forse dove anche la parte imprenditoriale è più matura su questo in via generale il tema dell'assicurazione catastrofale è un tema ripeto la prima delega è della fine degli anni 90 io ne ho viste passare almeno tre deleghe fatte per costruire un sistema di assicurazione catastrofale in Italia tutte e tre le deleghe sono spirate come dicono i fini giuristi io non sono un avvocato sono un protettore civile che capisce di norme questo mi mette diciamo uno scalino più in basso rispetto ai miei molti miei colleghi che occupano gli uffici legislativi però cerchiamo di avere una visione un pochino più pratica queste deleghe sono spirate perché non hanno affrontato alcuni nodi chiave che si sono puntualmente riproposti oggi il tema è di nuovo all'attenzione e speriamo che in questo nuovo esperimento si voglia affrontare il tema dove e qui chiudo veramente la scelta assicurativa non è plausibile che venga vista come una scelta per esternalizzare il rischio dalla parte pubblica alla parte privata perché non è questa la sostanza e infatti quello è stato secondo noi uno dei punti per i quali le vecchie deleghe non sono state poi esercitate deve andare di pari passo con un'azione pubblica che dia conto dell'intervento che la collettività fa per ridurre i fattori di rischio se le due cose non vanno di pari passo il sistema è squilibrato e la risposta secondo noi non ci sarà perché se il tema è solo mi assicuro perché siccome la finanza pubblica ha i suoi problemi ci può essere il rischio di avere poche risorse pochi interventi tardivi interventi è una risposta debole e non funziona noi dobbiamo concentrarci sulla parte legata alla riduzione dei fattori di rischio in questo sicuramente la regola dell'integrazione che era quella che era la base del nostro sistema l'idea di fare sistema e di valorizzare le competenze di rischio è fondamentale a tutti i livelli diciamo a livello governativo è l'impegno che il dipartimento portavanti dà sempre ma sappiamo che anche a livello regionale sempre più spesso si portano avanti tematiche dove la commissione protezione civile delle regioni interagisce con altre commissioni del tavolo della conferenza questi appuntamenti comuni secondo noi dovrebbero essere più comuni più frequenti perché in quel modo facciamo il nostro lavoro cioè di andare a trovare le soluzioni a volte dove ci sono senza doverle necessariamente pensare e dovercele inventare da noi a volte con i risultati non più funzionali che abbiamo visto grazie 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 dottor Giorola avete capito insomma ci stiamo rendendo conto della complessità io devo dire da giornalista forse è il tema più difficile che noi dobbiamo spesso spiegare ai cittadini ai nostri lettori come dire eventi situazioni fatti di grande complessità come quello di cui stiamo parlando oggi non è semplice spiegare come si interviene come si dovrebbe intervenire come si può riparare dopo un danno spesso quello che si vede sulle cronache appunto è il disastro uno degli elementi fondamentali per capire queste dinamiche chiaramente sono la raccolta di dati l'analisi dei dati su questo per esempio il lavoro di integrazione dei vari sistemi informativi che sta facendo AGEA con delle linee guida può esserci di aiuto sia appunto per mettere in rete e quindi elaborare meglio quelle che possono essere le azioni da intraprendere e costruire quindi delle strategie sempre più efficaci su questo il dottor Salvatore Carfi del direttore dell'organismo di coordinamento di AGEA può sicuramente darci un ulteriore tassello di questo quadro che stiamo disegnando questa mattina dottor Carfi le passo volentieri la parola grazie di essere con noi grazie grazie ancora grazie per l'invito è un piacere essere qui e contribuire insomma alle discussioni di questo evento perché come sapete insomma un po' tutti quanti gli stakeholder del settore la gestione di rischio è uno degli aspetti importanti del piano strategico della PAC perché è in parallelo a tutto il sistema dei sussidi degli interventi che sono inseriti all'interno dello stesso prima di passare alla mia presentazione volevo anche collegarmi al ragionamento che ha fatto Giuseppe e anche il dottor Giarola di collaborare in una sinergia comune perché quello che è importante per la gestione del rischio appunto è il dato e il dato che sia un dato validato però che sia un dato accurato perché altrimenti poi le politiche che ne escono fuori non sono e non hanno i target oggettivi per poter poi prendere decisioni sul mondo assicurativo e sul mondo dei sussidi della gestione di rischio a riguardo c'è la cosa fondamentale è che come dicono a Bruxelles the match on the ground quindi dobbiamo assolutamente capire cosa c'è nel suolo e a GEA come patrimonio informativo del dato insieme agli organismi peccatori regionali detiene tutta una serie di informazioni e di strati che ci permettono di utilizzare ci mettere a disposizione nell'ambito del protocollo d'intesa che deve essere il punto di partenza perché quando a valle dell'analisi io chiamerei più che mappatura della gestione del rischio la mappatura del rischio innanzitutto togliamo la gestione perché la gestione ci viene dopo noi dobbiamo fare come paese una mappatura del rischio a monte partendo dai dati a disposizione di AGEA e degli agli organismi peccatori perché sono dati validati controllati e certificati a monte su questi strati poi di informazioni ci vengono sopra tutti gli altri attributi altre informazioni che detiene la protezione civile che detengono altri organismi e quindi il patrimonio informativo dell'uso del suolo è colì che si arricchisce perché a valle poi la mappatura del rischio arrivano diciamo gli alluvioni arrivano i problemi arrivano tutta una serie di situazioni climatiche per poi introdurre appunto la parola gestione che si tramuta in rimborsi che si tramuta in sussidi e quindi se il dato di partenza non è quello del mondo di AGEA e degli organismi peccatori regionali quando andiamo poi a rimborsare eventualmente dei danni ecco lì che il dato non torna quindi per forza di cosa il dato di partenza deve essere il mondo di AGEA e degli organismi peccatori e poi arricchirlo con tutta una serie di informazioni che sono in mano a altri organismi e di quali insomma ne sono pienamente cosciente che dobbiamo trovare delle sinergie per dar ripeto arricchire il dato perché a valle poi ci saranno gli agricoltori che faranno una domanda di richiesta di sussidio e quindi se il dato di partenza non è quello che abbiamo creato ecco lì che l'agricoltore sarà messo nelle condizioni di avere delle anomalie delle dispute e quindi come diceva Toto Blasi non saremo performanti nel pagare il premio perché quando si ha un danno il ruolo dell'amministrazione è quello di rinfocillire immediatamente e non dopo due tre anni perché a quel punto abbiamo perso diciamo ecco il ruolo che siamo tenuti a gestire quindi su questa fattispecie per quanto riguarda AGEA massimo supporto ci volevo insomma volevo un attimino ecco contribuire a questo che i dati di AGEA e dei pagatori regionali sono a disposizione di questo modello perché AGEA ha ortofoto con voli ripetuti a ciclo trennale con foto interpretazioni in machine learning e l'utilizzo dell'AMS che sarebbe l'uso di sentilane che è un nuovo elemento del sistema metricato di suono in controllo ogni 4 giorni andiamo a monitorare un territorio quindi queste sono le nostre informazioni con l'integrazione dei dati che provengono dagli organizzi e pagatori regionali perché poi loro hanno la competenza di fare i controlli cosiddetti a cascata o i controlli in luogo e quindi è quello che il dato ancora di più si arricchisce di informazioni territoriali quindi su questo mondo creiamo altri attributi c'è il layer per poter poi decidere innanzitutto fare una mappatura del rischio in Italia per aiutare anche le assicurazioni ad abbassare il prezzo delle pollizze perché dove noi andiamo ad individuare che su un territorio non è un rischio non capisco perché le assicurazioni devono fare su un prezzo così elevato rispetto a un'altra area dove invece è stata classificata come un rischio vero quindi indirettamente ci aiuta anche insomma a coordinarci col mondo assicurativo che ci permette anche di far ridurre il premo delle pollizze che è uno dei problemi a cui dobbiamo aspirare perché diciamo l'aspetto ideale sarebbe che se ciascun agricoltore d'Italia avesse una pollizza io credo che non avremmo alcun problema perché da una parte ci sono i suoi siti dall'altra c'è l'assicurazione di un eventuale rischio e quindi l'agricoltore potrebbe programmare le sue azioni o le attività commerciali in maniera più serena quindi questo ci tenevo dirlo che AGEA è a disposizione insieme agli organizzi pagatori regionali a arricchire l'informazione ma soprattutto a prevenire permettermi di usare questo termine e non a rincorrere poi insomma quello che è il problema delle calamità c'è fatta questa premessa entriamo un attimino nel contesto di cosa AGEA sta preparando per il 2024 l'obiettivo è soprattutto quello di semplificare il processo del mondo della gestione del rischio perché abbiamo visto la complessità nella gestione abbiamo una serie di obblighi abbastanza complessi e per noi stessi ma soprattutto per gli agricoltori e per gli altri stakeholders che sono appunto i centri di assistenza agricola che sono appunto i consorzi di difesa e che diciamo indirettamente impattano anche il mondo assicurativo abbiamo provato a fare un'analisi di impatto quindi abbiamo messo a tavolo tutti gli stakeholders che sono quelli che ho menzionato poco anzi abbiamo fatto delle interviste sulla base di quello che è l'attuale sistema in una visione integrata quindi come semplificare tutti i processi attualmente messi in piedi per poter rendere ecco come diceva Toto Blasi efficiente il sistema e quindi il pagamento in maniera abbastanza celere perché è quella la nostra missione perché se paghiamo dopo due tre anni non ha senso diciamo aiutare l'agricoltore perché a quella data forse è già fallito quindi insomma il discorso che abbiamo messo in piedi è semplificare i principi amministrativi cercare di implementare attraverso le informazioni delle banche dati un sistema proattivo di un pagamento automatico dove i controlli non vengono più fatti a posteriori ma durante diciamo la richiesta di accesso al premio ovviamente può ridurre le anomalie perché questo qua se facciamo i controlli preventivi l'agricoltore nel momento in cui ci andrà a firmare la sua domanda di pagamento le anomalie dovrebbero ridursi a zero e quindi a quel punto saremo anche in grado di erogare i sussidi in tempo debito il progetto innanzitutto come molti di voi sanno diciamo la mamma delle mamme è il fascicolo aziendale dell'agricoltore adesso diciamo c'è anche l'imposizione comunitaria che bisogna che non sia più affronumerico ma sia grafico e qui torniamo al ragionamento quando parliamo di mappatura dobbiamo ragionare sulla parte geospaziale sulla parte grafica e non più sull'alfanumerico quindi prima diciamo situazione è avere un fascicolo aziendale grafico nell'ambito del Sian con l'ausilio degli organizzi pagatori regionali e di tutti gli altri perché anche AGEA è un organizzio pagatore quindi che siano all'interno di un contesto che in maniera automatica hanno la stessa procedura le stesse informazioni e le stesse diciamo attività operative per poter validare un'informazione dell'uso del suolo di un determinato anno a livello integrato questo fascicolo aziendale oggi contiene una serie una marea di informazioni ma vorremmo che sia arricchito anche delle informazioni che sono necessarie per la gestione del rischio per quanto riguarda le domande di pagamento questo per fare cosa perché se l'informazione esiste già nel fascicolo aziendale io potrei automaticamente precompilare la domanda di pagamento senza che l'agricoltore faccia nulla ma solamente fare un BIF e validare tutti i dati che sono precompilati perché oggetto di un'analisi e di un controllo che è già venuto in maniera preventiva questo ovviamente determina un'attività che io chiamerei come servizi perché la GEA non deve rispondere più da un punto di vista diciamo operativo perché esiste ma deve fornire servizi gli servizi all'agricoltore perché esistiamo perché e diciamo esiste l'agricoltore ma prima dell'agricoltore abbiamo tutta una serie di stakeholders che hanno un ruolo ben determinato dalle norme sia comunitarie che nazionali e quindi sono i centri di assistenza agricola il mondo assicurativo indirettamente e i consorsi di difesa che stanno in mezzo ai centri di assistenza agricola e al mondo assicurativo quindi ognuno deve avere un ruolo un ruolo che ci porta ad ama di accelerare i pagamenti della gestione del rischio abbiamo mappato per usare un termine della protezione civile tutti i vari ruoli e le attività di ciascuno a livello del processo e siamo arrivati a un risultato che abbiamo concluso attraverso la validazione delle linee guida dello sviluppo del nuovo modello da gestione di rischio all'interno dei quattro interventi che sono nel piano strategico nazionale gli interventi devono essere integrati perché così facendo un intervento può aiutare quell'altro e l'agricoltore sia anche in un mondo interattivo consapevole di cosa e cosa può andare a richiedere da un punto di vista di gestione del rischio l'attività sarà lanciata la settimana prossima quindi abbiamo già collezionato tutti i commenti alle linee guida a seguito delle interviste e da lì partirà il progetto che dovrà atterrare nei primi mesi del 2024 per essere operativo alla gestione dei nuovi interventi perché a questi mi riferisco del nuovo PSP la cosa importante del processo è diciamo quello che abbiamo detto che sta al centro sulla vostra sinistra del box piano culturale grafico quindi è vero che un'azienda deve dichiarare tutta la sua consistenza aziendale ma è pur vero che a monte dovrebbe dirci cosa e quale parcella o quale animale vuole assicurare quindi una sorta di manifestazione di interesse che parte dal fascicolo e non è che separata attraverso un altro procedimento quindi l'agricoltore nel momento in cui l'ambito del fascicolo che è detenuto dai centri di attenzione agricola come delegato attività degli organismi impagatori e di AGEA e quelli regionali deve chiedere al agricoltore se e cosa ci vuole assicurare automaticamente il sistema crea una piattaforma della mappatura grafica della gestione del rischio noi sappiamo in ogni regione quale parcelle quali agricoltori e quali macro usi o usi del suolo sono stati potenzialmente oggetto di una richiesta di assicurazione in maniera tale per programmare per gestire e per far sì anche che i consorzi di difesa siano in grado di poter gestire questa operazione nell'ambito di relazioni bilaterali con il mondo assicurativo perché a quel punto avremoci un pacchetto cimano i consorzi di difesa che potrebbe aiutarli a negoziare anche col mondo assicurativo perché sappiamo tutti un agricoltore non si assicura perché magari il prezzo della polizza è alto e quindi magari diceva bene io tutte le serie vi faccio rosario prego e speriamo che non ci sia nulla e invece potrebbe essere anche un concetto che conoscendo l'elemento che i consorzi di difesa il ruolo per essere una porta a casa c'è un prezzo calamiliato a quel punto avremmo un incremento nel mondo assicurativo degli agricoltori per quanto riguarda le adesioni vi faccio un esempio io purtroppo ho il bene o il male ho il mio nonno che ha un ettore e mezzo di superficie la mia cavia è lui gli ho detto ma scusa nonno ma perché non ti assicuri alla misura che esiste oggi la sua risposta è stata ma esiste questa misura e tutto il paese anche se è un piccolo centro della Sicilia nessuno conosce che esiste la misura di gestione di rischio allora è qui che mi sorge un'altra domanda allora anzitutto in parallelo deve partire il processo della promozione della gestione di rischio su tutto il territorio italiano quindi attraverso dei corsi attraverso una disseminazione perché un elemento secondo il mio punto di vista è mancante nell'anello è proprio anche che molti agricoltori non sanno neanche cosa vuol dire gestione di rischio non sanno che esistono delle misure di supporto e di sostegno anche per l'imposto delle polizze e questo è fondamentale dalla mia analisi attraverso diciamo un elemento oggettivo quindi alla fine del processo nel momento in cui tutti i dati sono validati nel momento in cui i dati sono accertati nel momento in cui il PAI cosiddetto famoso PAI sarà eliminato perché questo è l'obiettivo che vogliamo fare perché sarà integrato nel fascicolo aziendale quindi non abbiamo più necessità del PAI a quel punto ecco lì che i tempi si riducono i processi si semplificano e quindi potremo veramente precompilare una domanda automatica e far sì che l'agricoltore per il tramite del CAI metta solamente una conferma perché il tutto è stato già precontrollato e prevalidato e ovviamente diciamo su questo poi avremo anche bisogno del vostro aiuto mi riferisco ai stakeholders con i quali stiamo lavorando se potessimo avere un modello un formulario di domanda di gestione di rischio di tutte le quattro misure c'è integrato sarebbe anche quello insomma un elemento importante perché poi come sapete dobbiamo fare i controlli sulle sovra e compensazioni e quindi avendo un'informazione all'interno dello stesso box potremo anche queste farle in maniera preventiva quindi dalle interviste sono uscite molte diciamo analisi che abbiamo definito quindi per farla in breve un nuovo modello di gestione di rischio in Italia quindi ovvio che siamo partiti dall'attuale situazione dalle attuali complessità e grazie alle attuali complessità ci siamo resi conto che forse alcuni processi vanno rivisti in maniera molto più semplificativa e in maniera integrata uno degli elementi che mi permetto di annotare che che mi ha colpito è l'aspetto diciamo del ruolo dei stakeholders cioè ognuno di loro si è ritagliato il proprio ruolo senza andare a finire nel campo altrui erano ben consapevoli di qual era il loro framework sul quale dovevano operare e questo mi è molto piaciuto nel processo delle interviste perché per noi è importante aver capito che loro sanno che non possono andare oltre a quel campo di grano perché quella è competenza di un altro diciamo stakeholders questo aspetto mi è molto piaciuto e quindi questo significa che tutti abbiamo capito l'importanza di passare un attimino se mi permettete di usare il termine di alzare l'asticella perché dobbiamo essere celeri a fare avere i rimborsi agli agricoltori il più presto possibile ecco vi ringrazio per l'attenzione e ancora grazie dell'invito grazie direttore commissario a lei un po' il compito di fare sintesi di questa prima parte della mattinata ma soprattutto di addentrarci perché peraltro lei come sappiamo bene non è solo commissario di Ismea ma è anche amministratore di Agricat e mi sembra che il tema Agricat sia stato più volte evocato inevitabilmente quindi entriamo nel merito di questa cosa che io dico la chiamo cosa però è una grande intuizione è una grande invenzione allora grazie funziona sì grazie buongiorno a tutti compito difficile quello di sintetizzare la prossima volta non mi farò inserire scaletta per ultimo però diciamo che in effetti penso che l'interesse di tutti voi sia sull'illustrazione e sul capire meglio che cosa sia Agricat e qual è lo scopo di questo fondo io con la mia mentalità da avvocato vado al supporto normativo mi sono cercato questa mattina diciamo che conoscevo ovviamente regolamento però proprio per andare sul puntuale lo scopo del fondo sono due non vi annoio brevissimo punto a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi meteoclimatici di natura catastrofali tra parentesi specifica alluvione gelo brina e siccità punto B aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici di incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e di favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico questo cosa ci dice in sostanza Agricat non ha la pretesa il fondo Agricat non ha la pretesa di fornire la risposta totalitaria alla gestione del rischio e soprattutto al risarcimento dei danni che derivano da questi eventi catastrofali perché non ha questa pretesa perché se noi andiamo immediatamente a verificare quali sono le misure del risarcimento previste dalla normativa a carico del fondo nel caso di eventi catastrofali vediamo che per le culture permanenti esclusi agrumi e olivicoltura vi è una franchigia elevata del 30% e il limite di risarcimento è del 40% elevabile per i nuovi assicurati al 45% in realtà 10% per i seminativi e le altre colture inclusi agrumi e olivicolture la franchigia si abbassa un po' al 20% ma il limite risarcitorio è al 35% elevato al 40% per i nuovi agricoltori quindi sostanzialmente il 15% sono percentuali che non sono irrilevanti ma sicuramente capite tutti voi che il 10% di un danno accertato il 15% di un danno accertato è un qualcosa che aiuta ma sicuramente non può risolvere da solo un problema e io qui farei un momento di passo indietro l'agricoltura l'agroalimentare l'agroindustria deve diventare sempre più centrale per il nostro paese l'agricoltura per molti anni è stata ritenuta la cenerentola il PIL incide il 5% vediamo che negli ultimi tempi negli ultimi anni quest'anno ad esempio l'agroindustria e le esportazioni del settore agroalimentare italiano nel primo trimestre del 2023 hanno fatto un più 12% trainando il PIL nazionale non a caso il governo attuale ha ritenuto ed è significativo anche il cambiamento del nome sembra un vezzo disturba perché in tutti poi i timbri e la carta intestata dobbiamo cambiare il nome no non è quello è un segnale chiarissimo agricoltura sovranità alimentare foresta dove in quel sovranità alimentare era chiuso tutto quindi il problema è che questo settore strategico per l'economia nazionale non può essere così abbandonato al destino dei cambiamenti climatici e agli eventi catastrofali comprendere da solo quanto possa essere incidente sull'istero sistema paese una scopertura una impreparazione di tutto il sistema rispetto a degli eventi che catastrofali sì ma ricorrenti purtroppo sempre più spesso ce lo dicono le statistiche quindi è necessario trovare il sistema per ridurre al massimo il rischio di questa attività di intrapresa che è fondamentale per il sistema paese lo ripeto forse per la terza o quarta volta quindi chiaro si è parlato di difesa attiva ovviamente andiamo dal futuro cioè dalla ricerca dall'innovazione sulle sementi sulla ricerca di nuove di piante sempre più resistenti agli eventi climatici e catastrofali ma quello è il futuro andiamo oggi più terra terra al rinnovamento delle culture anche l'innovazione scelte corrette dei porti innesto delle varietà di piante rispetto alla ubicazione proprio dei territori alla vocazione dei territori e poi i sistemi moderni di irrigazione penso alla siccità problema dei problemi oggi abbiamo avuto negli ultimi anni è vero eventi catastrofari di alluvione ma soprattutto siccità e quindi l'ottimizzazione dell'irrigazione attraverso sistemi di controllo sempre più accentuato pensiamo ai droni ma pensiamo anche per i frutteti ad esempio al sistema di copertura con i teli sempre più affinati rispetto alle esigenze del momento quindi l'antibrina eccetera detto questo torniamo ad Agricat Agricat non ha la pretesa non voleva avere la pretesa di dare la risposta al risarcimento del danno sostituendosi ad un sistema che deve essere necessariamente un sistema integrato non è questo il dottor Carfi diceva giustamente gli agricoltori non non conoscono la questione gestione del rischio non conoscono le polizze agevolate non conoscono la difesa nei confronti di questi eventi e Agricat serve innanzitutto a questo per la prima volta tutti gli agricoltori a partire dal 16 ottobre nella ripartizione dei fondi e quindi gli arriveranno dei fondi in cui immagino nella specifica Agea scriverà questo è il tuo fondo poi dirà prelievo 3% fondo Agricat e l'agricoltore si chiederà che cos'è questo fondo Agricat e tutto sommato absit ignura verbis come dicono come dicevano i latini purtroppo l'alluvione dell'Emilia Romagna ha accelerato questo processo perché noi abbiamo avuto già ad oggi ormai i termini sono chiusi 9.000 domande circa di risarcimento sul fondo Agricat da parte degli imprenditori agricoli degli agricoltori che rientrano nella perimetrazione del cratere diciamo all'Unione e questo dà ovviamente il senso di una consapevolezza che ormai il mondo agricolo sta cominciando ad avere ma che deve sempre più sviluppare quando si parlava di animazione sul territorio questo ovviamente lo può fare Ismea lo può fare Agea lo fa sicuramente il MAS ma in questo gli attori che sono da un lato i sindacati dall'altro i consorsi di difesa e dall'altro in genere anche i media la stampa tutti quelli che possono aiutarci in questo cioè far acquisire la consapevolezza che esiste uno strumento strumento che attenzione e questo è stato ribadito nell'articolo 12 della legge 100 è uno strumento che ha dei limiti ovviamente Agricat ha due limiti essenziali il primo è rivolto ai suoi assicurati che sono tutti i percettori di provvidenze tramite la domanda unica PAC il secondo limite è riferito a eventi determinati non a tutti gli eventi non alla grandinata non alla mosca olearia non alla fitopatia ma è riferita esclusivamente a eventi catastrofali che sono individuati puntualmente siccità e sulla siccità non abbiamo nulla da dire è ovvio è un dato obiettivo i pluviometri non piove non piove per tanti giorni c'è una situazione di crisi dal punto di vista dell'approvvigionamento di gelo e brina anche qui temperatura scende al di sotto di una soglia si crea il problema e si crea il problema nei momenti in cui questo può danneggiare le colture non sempre ovviamente il gelo e la brina hanno ma pensiamo alle gelate tardive cioè al momento in cui c'è la fioritura in cui c'è lo sviluppo della pianta terzo aspetto quello forse più scivoloso è quello dell'alluvione si è molto discusso l'alluvione prendiamo il vocabolario si tratta della esondazione di un corso d'acqua un fosso da un fosso di irrigazione a un torrente a un fiume o a un corso d'acqua di qualsiasi altra natura e qui possono nascere delle interpretazioni ovviamente su quelli che sono invece eventi non diretti derivanti il cui nesso di causalità è riferibile puntualmente all'alluvione quindi all'esondazione del corso d'acqua ma quegli eventi che chiameremmo indiretti ad esempio straordinarie prologie che possono causare delle frane o ancora o ancora eventi indiretti possono essere anche quelli di un'alluvione che colpisce una zona ma che in questa zona vi è una infrastruttura tecnologica una piattaforma logistica vi è ad esempio oppure una potremmo portare un'infrastruttura viaria che impedisca sostanzialmente all'agricoltore che invece non ha avuto l'alluvione però di raggiungere il suo fondo sono tutta una serie di situazioni limite che però il regolamento del fondo è chiarissimo anche perché tutto questo voi comprendete sono denari che arrivano dall'Unione Europea e tutto questo iter è stato puntualmente verificato e valutato dall'Unione Europea che anzi guarda al fondo Agrigat come ha uno strumento innovativo che è testato quindi anche in questo abbiamo un compito particolarmente importante cioè quello di far capire e di comprendere noi stessi se funziona come oggi che cosa possiamo dire qual è lo stato dell'arte con fatica come tutte le cose che partono da zero e che sono totalmente innovative però il fondo funziona nel senso che abbiamo comunque inserito nel Sian lo schema di domanda le domande sono state presentate ripeto il numero importante parlo dell'alluvione poi ci sono ovviamente abbiamo avuto eventi brina molto gravi sempre soprattutto nella zona della pianura padana e soprattutto nella zona dell'Emilia Romagna prima di arrivare è un po' come possiamo dire le bibliche cavallette se no le invasioni quest'anno purtroppo c'è stata prima la brina le gelate e poi è arrivata anche l'alluvione quindi abbiamo avuto domande ordinarie chiamiamole ordinarie e poi abbiamo avuto quelle chiamiamole straordinarie per l'evento alluvione le domande sono arrivate c'è stato come sempre accade un problema al Sian il 14 agosto ovviamente accade il 14 agosto si è banalmente è andato fuori servizio un pezzo dell'art che per la sostituzione è richiesta 15 giorni quindi la scadenza delle domande come il mio provvedimento dal 31 agosto è stata prorogata ma solo per questo motivo perché altrimenti il sistema aveva funzionato fino al 15 settembre ci sono state delle difficoltà da parte di poche effettivamente domande che hanno iniziato l'inserimento prima della scadenza ma che non sono state validate dal sistema per delle difficoltà probabilmente nell'inserimento nei software comunque anche per questo è stato dato per chi ovviamente ha iniziato la procedura prima della scadenza la possibilità di chiudere in ogni caso la procedura e di verificare anche con i tecnici quali siano le puntuali problematiche comunque abbiamo oggi tutte queste domande e qui arriva oltre e vado rapidamente a concludere oltre alla questione di cui abbiamo già trattato cioè quella della necessità di suscitare nel mondo agricolo la consapevolezza della necessità è vero della difesa attiva ma anche della difesa passiva dal primo punto di vista stiamo spingendo tantissimo sull'innovazione e nell'innovazione è fondamentale innovare nella difesa attiva ma è comunque per quanto si possa fare nella difesa attiva non sarà mai possibile escludere comunque il danno potrà essere ridotto potrà essere ridotto nei minimi tempi ma ci sarà sempre la possibilità che è nelle umane vicende che un danno si verifichi e lì deve scattare la difesa la difesa passiva e quindi questa consapevolezza del mondo agricolo io vi posso dire che in questo purtroppo vi è una grossa divaricazione nei numeri che comunque non sono soddisfacenti e alti nemmeno nel nord d'Italia ma c'è una divaricazione totale tra il nord e il centro sud e questo fa sì che peraltro questa divaricazione nella accensione delle polizze agevolate fa sì che poi le regioni del centro sud restituiscano sostanzialmente al sistema dei fondi che invece avrebbero cioè di agricoltura del centro sud che invece avrebbero potuto attingere appunto per stipulare polizze agevolate questo non si fronteggia naturalmente regionalizzando ma anzi si fronteggia nazionalizzando cioè allargando sempre di più la platea perché è ovvio che più sono i sottoscrittori di polizze più sono gli aderenti al fondo in questo caso al fondo di agricoltura è più elevata è la mutualità tra tutte le regioni e tra tutte le zone detto questo veniamo un attimo alle procedure risarcitorie noi ci troviamo di fronte a quale migliaia e migliaia di domande è impensabile ovviamente che si possa pensare solo ipotizzare che si mandi un perito per ognuna di queste aziende a verificare quale è stato il danno qui parliamo di risarcimento del danno ovviamente e qui scatta la necessità di sistemi che debbono dare una mappatura di aria di un danno per cultura e per aria interessate sempre più puntuale e con questo vi è l'integrazione totale tra Agrica Tismea e Agea per arrivare integrando i rispettivi dati e affinando sempre di più il sistema per arrivare ad avere innanzitutto per la gran parte delle situazioni penso ad esempio ai seminativi in Emilia Romagna faccio un esempio noi abbiamo una mappa puntuale di dove è stata l'acqua perché abbiamo i satelliti di quanti giorni è stata l'acqua e con un modello matematico elaborato e validato anche di quale profondità ha avuto l'acqua su ciascuna di queste zone alluvionate il che ci porta naturalmente alla conclusione che per quanto riguarda il seminativo se si è superato un certo numero di giorni relativamente a determinate per ogni cultura la cultura è totalmente perduta quindi lì il risarcimento a quel punto dato il valore ettaro del seminativo per totalmente perduto si può arrivare a un risarcimento addirittura individuando soltanto macrozone magari facendo delle perizie su aziende sentinella e arrivare ad un immediato risarcimento diverso è il discorso ovviamente del frutteto perché il satellite ovviamente non riesce non può comprendere se non nel caso di avulsione totale delle piante chiaro il frutteto viene completamente travolto dalla violenza delle acque e in quel caso è spiantato ed è un danno totale ma negli altri casi lì dobbiamo invece arrivare anche lì a aree sempre più puntuali e sempre più affinate di coltivazione e rispetto alle aziende sentinella in quelle aree arrivare a capire quale percentuale di prodotto si è perduta a causa dell'alluvione si va dallo 0% cioè è stata magari due giorni 30 centimetri 20 centimetri d'acqua le piante non hanno avuto alcun danno a situazioni in cui invece il frutteto ha avuto magari un decremento produttivo del 60 70 80% e questo è naturalmente più complicato un'ultima notazione su come funzionerà perché penso che questo sia l'interesse del momento il risarcimento per l'Emilia Romagna quelle franchigie e quelle percentuali di cui vi ho parlato prima non tenetene alcun conto per quanto riguarda l'evento catastrofale assolutamente unico verificatosi in Emilia Romagna e in alcune zone delle marche più limitate e ancora più limitate della Toscana in quel caso la legge ci dice che il risarcimento deve essere al 100% può arrivare al 100% e quindi noi abbiamo il problema eventuale anche delle sovracompensazioni perché ci sono ovviamente in quella zona che è già più sensibile alla difesa passiva ci sono agricoltori e imprese che hanno polizze personali diciamo private e poi ci sono una serie di altri strumenti che sono stati attivati in sede locale in sede regionale in sede comunale quindi abbiamo il problema della sovracompensazione ma in quel caso avremo quindi abbiamo il 100% e Agrigat cosa dovrà fare ovviamente validare le domande quelle che sono ammissibili quelle che sono nel cratere all'interno del cratere quelle che sono nelle zone effettivamente alluvionate perché poi nel cratere ci sono le zone interessate da frane ci sono le zone interessate da altri danni di varia natura e poi nell'ambito quindi di quelle valitate procedere con la dotazione autonoma che sono 50 milioni di euro sul fondo Agrigat conferitaci dalla legge al risarcimento nei limiti di quei 50 milioni e poi ovviamente tutte queste aziende concorreranno nella mutualità ordinaria e quella per la quale dovremo attendere ovviamente la fine dell'anno perché Agrigat funziona per anno solare al 31 dicembre avremo il quadro complessivo che riguarda tutta l'Italia e tutti gli eventi catastrofali e tra quelli andremo a risarcire con quei limiti nei limiti della dotazione del fondo che sono e qui concludo veramente stimabili in circa 350 milioni di euro dei quali il 30% viene conferito con il 3% di prelievo di cui abbiamo parlato prima agli agricoltori e il 70% deriva da risorse pubbliche sempre a valere su fondi comunitari quindi il tutto porta ad un totale di 350 milioni di euro circa capisco che la mia è stata forse un po' una illustrazione disordinata ma ripeto è uno strumento nuovo che ci offre tanti spunti e che deve comunque portarci a quel risultato che lo dice proprio di dare consapevolezza a tutto il mondo agricolo della importanza della gestione del rischio e soprattutto della difesa passiva nei confronti del rischio agricolo grazie bene grazie commissario ci ha dato veramente un quadro anche un po' a fare la sintesi di quello che dicevamo ed era necessario che lei poi intervenisse proprio in questo momento perché è stato un percorso che poi ci dà un quadro più ampio di quello che sarà e che è già il fondo agricat a questo punto facciamo un cambio di tavolo se me lo consentite nel senso che passiamo alla dimensione locale delle regioni intanto facciamo un ringraziamento e un applauso ancora a Giuseppe Blasi Roberto Giarola Salvatore Garfi e commissario Proietti dopodiché commissario lei ci rimanga come dire a portata di microfono perché magari il suo il suo intervento a suo parere può tornarci ancora utile e gradito e invito a prendere posto a questo punto se mi permette come moderatore però mi siedo al tavolo con i prossimi tre relatori perché sarà una vera e propria tavola rotonda e invito a prendere posto qui al tavolo dalla regione Marche direzione generale assessorato all'agricoltura il dottor Gianni Fermanelli dalla regione Lazio Paolo Gramiccia della direzione generale assessorato all'agricoltura e ultimo dalla regione Veneto Franco Contarin direzione generale assessorato dell'agricoltura prego l'invito a raggiungermi qui sul tavolo in fondo alla sala c'è dell'acqua no c'è c'è dottor Fermarelli eccolo benvenuti prendiamoci un minuto che la sala si assesti un secondo così riprendiamo i lavori capisco la sessione è stata abbastanza intensa concetti numeri cose da assaporare diciamo così da mettere a sistema ma adesso scendiamo sul piano locale peraltro abbiamo tre esponenti delle regioni ognuno con un'esperienza diversa chi da molti anni si occupa della gestione del rischio chi se ne occupa da meno tempo ma questo ci aiuta proprio ad avere una comprensione peraltro una delle regioni che è stata più volte citata le Marche è al tavolo allora aspettiamo magari ancora qualche istante si 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 Grazie. Allora direi che lentamente possiamo cominciare, anche perché come accade quando si comincia poi si torna al proprio posto. Dicevo, tre regioni, tre casi per capire cosa è accaduto in passato e in che posizione bisogna porsi rispetto a questo quadro che va rinnovandosi rispetto ad Agricat, ma non soltanto rispetto ad Agricat. Io comincerei proprio dalle marche se posso, proprio perché è stata la regione evocata a ragion veduta, poi non è che le altre regioni non abbiano subito anche in tempi recenti una serie di problematiche. Inizierei proprio con Gianni Fermanelli e io comincerei con lei, ma vorrei che in breve faremo una tavola rotonda con più giri di tavolo, con degli interventi lunghissimi, che ci raccontassi un po' la situazione nelle marche, com'è rispetto alla gestione del rischio e cosa state facendo. Poi dopo di che cercheremo di entrare un pochino più nel dettaglio, di evolvere il pensiero, non dico di evolvere le strategie perché ci vuole molto di più che una semplice tavola rotonda. Sì, le marche negli ultimi due anni ha dovuto affrontare diverse emergenze anche di tipo molto importanti, sia sotto il profilo civile, diciamo così, di interesse più ampio, infrastrutture e sociale, diciamo, come con l'alluvione del 15 settembre 2022, 13 morti di cui purtroppo una, peraltro un corpo ritrovato da poco e quindi diciamo di una certa vehemenza e consistenza e quindi anche il campo agricolo, tutto diciamo il sistema agricolo è stato sconvolto soprattutto nelle parti diciamo colpite direttamente dalla erosione di questa gran quantità di acqua, circa 400 e passa millimetri in 24 ore nella zona di Cantiano, quasi la metà di quello che cade in un anno e tutto questo si è riversato diciamo lungo il corso, i corsi principali che abbiamo in questo vaccino e ha creato numerosi danni anche alle attività agricole. Poi nel 2023, tanto per non farci mancare nulla, abbiamo avuto, diciamo così, come propaggine dell'alluvione cosiddetta della Romagna, sette comuni interessati anche con la delibera del Consiglio dei Ministri per danni da protezione civile. Su questi abbiamo avuto danni, diciamo da alluvione e da, anche qui da erosione, sulle zone collinarie di montagna. Poi di recente anche l'attivazione in una forma, diciamo così, di verifica dello stato di danno della peronospora, questo è un danno più localizzato su una specifica cultura ma per le marchi è interessante perché il settore vitivinicolo è uno dei più importanti. Per ognuna di queste situazioni emergenziali che avete visto sono state attivate delle forme di aiuto possibili, quelle del 102 che è quello, diciamo così, lo strumento ordinario, ma che sapete benissimo meglio di me, è molto vincolante perché non interviene generalmente sulle culture, sulle produzioni in generale, perché sono assicurabili e non interviene sulle strutture assicurabili. Quindi pensate alle serre e quindi lungo questa situazione che abbiamo avuto nelle Marche ci sono state diverse difficoltà a far intervenire il 102, insomma la linea di finanziamento del 102 su questa attività qui. Si è dovuto percorrere una strada diversa che è quella dell'ordinanza di protezione civile che ha consentito come linea di finanziamento di intervenire anche sull'attività agricola, mai senza il decreto legislativo 1 del 2018, e su questo, diciamo così, è possibile contare perché ci si appoggia sul regime di aiuto dell'articolo 37 del 24-70 del regolamento comunitario che è quello un pochino più ampio per le calamità e, diciamo così, consente un ristoro fino al 100%. Adesso questo panorama così veloce di eventi un po' dannosi e quindi anche un po' da... Ah, dimenticavo, una siccità nel 2022 piccolina, vabbè, ha interessato pochi comuni e, vabbè, negli anni precedenti Grandinata, Gogò e via dicendo. Su questo sistema la Regione Marche non ha, diciamo così, ha molte potenzialità e risorse da dedicare per, diciamo, prevenire o, diciamo, intervenire in ex post. Sì, è possibile farlo, abbiamo gli strumenti del PSR con la misura 5.2 in particolare e su altre, diciamo, possibilità legate alla diffusione dello strumento assicurativo che nelle Marche, posso dire, non è sicuramente fra le regioni, che nelle Marche non è una regione fra quelle più, diciamo così, assicurate d'Italia. Però, ecco, diciamo, resta sempre il fatto che gli interventi compensativi restano ancora un'attesa abbastanza, una speranza abbastanza importante da parte dei nostri agricoltori. Dopo, nel proseguo della tavola rotonda, magari specifichiamo meglio anche perché. Cioè, secondo me, il quadro normativo, adesso intanto lo inizio come lo affronto, diciamo, in una prima battuta, il quadro normativo, essendo, diciamo, legato a più linee di finanziamento, crea un po' di, diciamo, di aspettative e quindi non sempre lo strumento assicurativo che dovrebbe essere quello principe, insomma, che dovrebbe garantire una gestione del rischio sana da parte dell'impresa agricola, è, diciamo, supportato da fatti concreti legati poi agli avvicendamenti delle deroghe che si fanno alla normativa più, diciamo, più importante, quella sugli interventi di calamità, 102, ordinanza di protezione civile. Quindi, diciamo che lo strumento, sì, dei grandi interventi esposti avviene su grandi fenomeni, però è pur vero che si disincentiva un po', diciamo così, l'affezione verso lo strumento assicurativo. Ripeto, già partendo non molto, diciamo, da punti di vista, diciamo, molto interessanti, dal punto di vista dell'affezione, può diventare anche un problema, anche per questo aspetto qui. Passo la parola perché può darsi che vi ho tediato un po'. No, ma assolutamente, assolutamente no. Passiamo al Veneto, anche per capire un pochino, per esempio, perché, se ci sono delle ragioni, noi sappiamo due cose, si dice spesso che le regioni del nord siano state più impreparate, per esempio, ai fenomeni siccitosi, probabilmente perché al sud c'è più, come dire, purtroppo c'è una carenza endemica di acqua e quindi si è stati più pronti, ma non è solo l'unica cosa, però se c'è delle ragioni che, per esempio, giustificano lo squilibrio alle adesioni, proprio ad aderire agli strumenti di gestione del rischio, se c'è, come dire, una impreparazione agricoltorale, se c'è una, come dire, una mancanza di informazione verso l'agricoltore o cos'è che scatta o che non fa scattare questo? Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Ma vengo diretto sul punto. Ma, come dire, prima gli illustri relatori ci hanno invitato, ci hanno richiamato l'oggettività di controlli, l'oggettività di dati, eccetera. C'è un'oggettività che è data dal territorio, innanzitutto. Ovvero, un conto è fare agricoltura nella pianura padana, che per carità è, come dire, l'orizzonte sconfinato che abbiamo in Italia, però è a ridosso delle Alpi. E quindi, da sempre, non andiamo a scomodare gli antichi romani, no? E da sempre le produzioni che qui si realizzano sono esposte alle gelate tardive, al dramma delle gelate precoci, quando ci sono, sono esposte agli eventi grandinigeni. Quindi, gioco forza l'imprenditore in questi contesti, soprattutto, perché poi se si va a leggere tra le righe, no, si nota che le culture di pregio sono quelle più sensibili, quindi, gli imprenditori che esborsano investimenti considerevoli, è venuto normale, aiutati sicuramente dall'azione dei consorzi di difesa e quant'altro, nel corso di decenni, fruire di questo strumento. Perché è impensabile, ti può andare bene un anno, due, ma già il terzo anno è certo l'evento negativo, non si sa quale, ma sicuramente si verificherà. Quindi, c'è un'oggettività, evidentemente, legata all'aspetto territoriale, climatico, che va da sé, come c'è un'oggettività rispetto alla vocazionalità delle culture che si trovano in certi territori e non in altri. Sicuramente una produzione a seminativo a basso valore, ci sono anche seminativi ad alto valore, ma se ragioniamo con le commodities, per quell'imprenditore lì, il trade-off tra incorporo al 100% il rischio o sono certo di dover spendere un 10-20% dell'utile futuro, del ricavo futuro, per cautelarmi nell'ipotesi di probabilità che ricorra all'evento negativo, l'imprenditore fa i suoi conti. Cioè, è molto semplice, lo facciamo anche noi rispetto a, non so, fatti quotidiani della vita. Quindi, c'è questo aspetto. È vero che questa valutazione del rischio, probabilmente, come dire, va, questa cultura della valutazione del rischio e dell'uso degli strumenti di disposizione, va sicuramente migliorata rispetto a un contesto molto più dinamico, che si è progressivamente sempre più velocizzato negli ultimi due decenni. Scusi, per capire. Quello che sta dicendo è che l'agricoltore oggi si fa due cotti in maniera molto empirica e secondo lui non conviene aderire a questi, usare questi strumenti? Sto dicendo che in certi contesti territoriali e per certe coltivazioni la risposta a questa valutazione è, devo assicurarmi. In altri contesti, per altre colture, la risposta a questa valutazione è, accetto il rischio perché la probabilità del verificarsi degli eventi, di mettere a rischio la redditività della mia azienda, costa meno rispetto al costo dell'assicurazione. La battuta è, metto in banca il prezzo della polizia. È mio pe... no, io non vengo a dirlo. Poi sicuramente, ripeto, la valutazione deve essere fatta nel contesto vigente. Ora, il contesto attuale ci sta insegnando che a di là degli eventi calamitosi che secondo me meritano una riflessione a parte, in quelli che sono i normali eventi che si verificano e che espongono, a cui è esposta la produzione agricola, il cambiamento climatico sta dimostrando dei tassi di frequenza e delle intensità che erano impensabili dieci o vent'anni fa. Quindi, probabilmente, non è detto che tutti, ma per primo abbiamo gli strumenti per effettuare una valutazione reale, perché il rischio e la frequenza sono cambiati. Quindi, probabilmente in questo senso vanno gli strumenti per aiutare. Qual è il ruolo delle regioni in tutto questo? Allora, credo che le regioni, come dire, siccome sono l'entità di governo territoriale prossima al territorio e hanno contezza, conoscono, non dico nome per nome, ma guardano negli occhi i propri interlocutori, sia che si parli di agricoltura o delle altre attività economiche o dei temi sociali, sono il veicolo che può far atterrare determinati strumenti che possono agevolare questi processi. Cosa intendo? Faccio due battute. Io sono poco esperto di gestione del rischio, sono l'autorità di gestione del PSR 1422, ora del CSR regionale, del piano PAC 2327. Non ho, come dire, timore ad ammettere che probabilmente tutta la fase di definizione della programmazione compiuta sicuramente in vista del PSN PAC, almeno a casa mia, da parte di tutto il partenariato regionale e anche degli uffici regionali, forse non è stata compiuta nella piena consapevolezza di quello che dicevo poco anzi. Perché? Perché se vado a vedere l'entità, non solo l'entità delle risorse, ma anche le strumentazioni interne, le priorità che abbiamo inserito, forse si può fare di meglio per educare una corretta valutazione e cultura del rischio per accompagnare gli imprenditori. Faccio un esempio. Su alcune misure di investimento abbiamo introdotto principi e criteri di selezione che prevedono la verifica e quindi l'attribuzione di un putteggio a favore in più rispetto agli altri se l'immobile o il progetto, o comunque l'intervento che dir si voglia si viene a proporre è presentato da un'impresa che aderisce a uno dei tre interventi di gestione del rischio che sono resi disponibili dal pacchetto nazionale, quindi le assicurazioni, i fondi di mutualità e o gli ST. Allora, si poteva sicuramente fare di meglio oppure io ho notato dal lato del partenariato un'estrema attenzione che ne so sul tema correttamente del giovane agricoltore del ricambio generazionale, sicuramente dell'agroambiente e poi con tutta la pressione del Green Deal biologico e quant'altro. A livello regionale abbiamo comunque attivato i due interventi a nostra disposizione per la prevenzione o il ristoro in caso di danni con un'allocazione siamo sul punto percentuale insomma ecco questo può essere traslato chi più chi meno credo ma lo confermeranno i colleghi anche nelle altre regioni. Quindi c'è un problema ripeto attualissimo sicuramente di cultura a livello non solo degli imprenditori ma anche a livello di quelle rappresentanze di quelle dirigenza e sicuramente in questo anche delle regioni ovviamente dei dirigenti regionali in primis e poi degli assessori ad approcciare in termini corretti perché la sensazione mia è che purtroppo ce l'hanno detto tanto spesso gli scienziati ma effettivamente il punto di non ritorno è già stato superato qualcuno sorrideva l'anno scorso sentirsi dire da qualche illustre ripeto scienziato che ricorderemo 2022 come l'anno fresco perché c'è stata la siccità ma c'è stata la temperatura alta soprattutto e vedendo l'andamento dell'inverno che ci ha traghettato nel 2023 e tutto sommato la stagione del 2023 al di là della provvidenza divina che ci ha aiutato con le piogge periodiche però effettivamente questo si sta avverando quindi probabilmente è necessario veramente che noi regioni facciamo la nostra parte in questo senso non ci tiriamo indietro anche in questa fase di programmazione oltre al ruolo che come dire che non solo per ruolo mio oltre al ruolo che anche in quanto ci è stato giustato stamattina ribadisco come se dovete ribadire possono fare proprio per la conoscenza del territorio che hanno e per la pratica di gestione che le caratterizza ormai veniva ceduto stamattina almeno dal 98 ma già da prima insomma ricordo sui nostri programmi ormai lascio stare la vicenda del carburante agevolato su cui gestiamo normalmente decine di migliaia di domande all'anno con due appuntamenti annuali eccetera ma abbiamo affinato strumenti di gestione in questi decenni che fanno fronte a decine di migliaia di domande in tempi anche relativamente veloci per la risposta dell'agricoltore prego grazie grazie andiamo al Lazio anche in questo caso qual è un po' la situazione del Lazio rispetto agli strumenti di gestire del rischio è acceso? sì funziona? ma il Lazio io non mi occupo di questo da tanti anni diciamo la situazione nostra è che quindi mi scusi quindi avrà visto anche come dire l'innalzarsi delle problematiche assolutamente cioè le problematiche sono aumentate i cambiamenti climatici che sono stati detti stamattina e anche adesso dal collega sono una realtà con cui l'agricoltore dovrà misurarsi nei prossimi anni e quindi è un cambiamento epocale non sono più situazioni occasionali o straordinarie le cosiddette calamità naturali straordinarie ma diventa un'ordinarietà e quindi su questo diciamo che siamo un po' tutti spiazzati la situazione del Lazio faccio un esempio si è parlato stamattina di difesa attiva passiva la nostra la situazione che abbiamo trovato è iperpassiva nel senso che l'unico strumento che viene utilizzato per allentemente del decreto 102 ma sicuramente è sufficiente quindi gli indici del rapporto annuale ISMEA sulla situazione assicurativa e sui strumenti diciamo di difesa il Lazio ha tutti indici bassi assicuriamo l'1,7% della SAU la nostra è una SAU anche importante quindi le regioni che è stato detto anche prima lo squilibrio nord-centro-sud esiste e su questo forse dobbiamo fare tutti un'azione di sistema condivido quanto è stato detto prima di promozione di conoscenza l'esempio che diceva tanti agricoltori non conoscono questo strumento quindi noi come soggetto pubblico dobbiamo sicuramente fare una campagna promozionale di conoscenza di tutti quegli strumenti di difesa attiva e passiva su questo non abbiamo tanto tantissimo da lavorare è un fenomeno forse da studiare comunque nel Lazio c'è poco esistono non ci sono i consorsi di difesa c'è poco presente abbiamo fatto delle leve noi con il vecchio piano di sviluppo rurale sul sistema di difesa attiva ma sicuramente tutto ciò va potenziato e quanto diceva adesso il collega del vero è vero cioè il CSR può essere uno strumento importante dove andiamo a fare delle leve anche sulla premialità di alcuni interventi sui punteggi su alcune cose che attivino sistemi di difesa perché qui è in ballo come diceva giustamente il commissario prima di Smer cioè in ballo un settore nazionale di tutto l'agroalimentare perché le calamità continuano quindi è a rischio proprio tutto un intero comparto nazionale importante un'altra cosa che noi abbiamo avuto la siccità forte nel 2022 abbiamo avuto la gelata forte nel 21 quindi gli ultimi anni comunque ogni anno ne succede una o in più zone alcune zone sono anche spesso più frequentate da alcuni fenomeni dalle bombe d'acqua delle situazioni quindi anche ricorrenti e quindi bisogna assolutamente intervenire e trovare delle soluzioni faccio un esempio sulla siccità la siccità nel Lazio le zone più infrastrutturate dal punto di vista dell'irrigazione delle bonifiche pensiamo a Latina ad esempio ha reagito meglio all'aspetto della siccità perché anzi paradossalmente alcune patologie sono state contenute dal caldo eccessivo dalla siccità ma il sistema irriguo il sistema infrastrutturale ha permesso di resistere e quasi sono stati più competitivi in una situazione di questo tipo quindi questo vuol dire che la difesa attiva è importante anche a livello infrastrutturale e rispetto a quello che è stato detto prima dalla protezione civile dal dirigente della protezione civile noi ci collaboriamo molto e facciamo molte azioni di sinergia bisogna fare sempre più sistema e azioni di sinergia e poi a mio avviso lavorare molto sulla prevenzione non so se è un mio pallino però credo che su quello abbiamo margini di crescita tutti quanti oggi il tema è che i dati forse non li mettiamo insieme la protezione civile c'è i suoi la regione noi abbiamo l'arsia con 94 capannine meteorologiche sul territorio l'aeronautica tutto quello che è stato detto prima ognuno c'è i suoi ma qui bisogna mettere tutti insieme i megadati in un sistema utilizzare anche intelligenza artificiale trovare un modello previsionale più possibile che ci permetta di intervenire con tempestività non cercare poi i buoi quando scappati dalla stalla insomma ricorrere al dopo quindi sicuramente su questo penso ci siano dei margini di crescita la tecnologia ce lo permette ci sono su questo bisogna fare rete fare sistema sia a livello nazionale che regionale penso che una sperimentazione di questi modelli cioè oltre cioè trovare un modo per sperimentare in delle aree dei sistemi di tecnologia più avanzata per questo possa sicuramente aiutare l'altro aspetto sì sulla difesa passiva far conoscere più possibili strumenti assicuritini il fondo di mutualità tutti gli strumenti che abbiamo per permettere all'agricoltore di non avere questi scostamenti annuali sulla redditività perché poi quest'anno gli indici dicono che il 2023 a parte la volatilità dei prezzi pare che sia mancata proprio in alcune zone proprio la produzione la produttività quindi la peronospora ci ha trovato un po' impreparati è una patologia che conosciamo da tantissimi anni e chi fa il biologico è stato particolarmente penalizzato nel Lazio e noi abbiamo una superficie portante di viticultura in biologico anche lì sapere che pioveva per 40 giorni non ha permesso di entrare nei campi bisogna pensare o a sistemi alternativi per entrare nei campi o a una deroga magari non dopo magari la prima per poter far trattare chi era in bio con dei sistemici anche lì sentiamo gli agricoltori che si lamentano delle difficoltà con anche gli antiparassitari i principi attivi che molti sono stati anche limitati dalla revisione dell'Unione Europea quindi i temi in campo sono tanti però sicuramente io stamattina ho ricevuto tanti stimoli credo che la questione della collaborazione di mettersi in rete perché questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme non possiamo fare dei localismi o dei regionalismi ma credo che è una battaglia di sistema che dobbiamo vincere insieme quindi mettere a disposizione gli strumenti e tutto ciò che è stato fatto mettendo da fattore comune sicuramente ci permetterà un risultato positivo Grazie Contarin però facendo tesoro di quanto ha detto il collega del Lazio in quale maniera le regioni potrebbero contribuire attivamente nel mettere a punto questi strumenti agricata in primis quale tipo di interazione anche magari immaginando delle proposte che potrebbero anche essere sperimentali ma praticabili da subito Allora dal punto di vista partiamo dal presupposto la prima cosa che ho detto l'ho detta prima forse è la più lunga a venire ma 37 miliardi di piano strategico dentro il quale ci stanno anche i 16 17 miliardi che sono finiti nei programmi regionali sono una cifra importante però come dire è talmente ampio lo spettro degli obiettivi per cui vengono orientati o sui quali possono essere orientati al di là delle indicazioni obbligatorie dei rinfensi imprevisti sono dei vincoli finanziari previsti dalla Commissione europea per i suoi obiettivi lì dentro ripeto richiamo in primis questa consapevolezza reciproca nostra in modo tale che la fase di programmazione sentire la preoccupazione iniziale io sono arrivato un po' in ritardo me ne scuso con tutti ma quando Giuseppe Blasi che insomma sa ben quel che dice poneva io ho colto una preoccupazione rispetto al budget programmato sui vari SRF che sono gli interventi di gestione del rischio non tanto per i fondi ma proprio per la copertura assicurativa se ripenso al negoziato ministero regioni eccetera insomma dico sì forse forse Giuseppe magari il ministro di turno era sfuggito che serviva qualche centinaia di milioni in più però anche le regioni diciamo da lato loro hanno favorito il fatto che ci si preoccupasse di più di altri aspetti dei riparti finanziari quindi primo la consapevolezza che la gestione del rischio è lo strumento poi non vado a scomodare scienziati ripeto o esperienze internazionali però insomma se guardiamo un po' ovest ovest gli Stati Uniti mi pare che qualcosa dovremmo imparare lì no in termini proprio di politica agricola complessiva ma lasciamo stare sappiamo che lì no da 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 tempi non così recenti la politica interviene sulla gestione del rischio punto ed è finito ok qua noi siamo latini quindi abbiamo una cultura diversa che negli anni e nei decenni ha portato tutta una serie di strumentazioni a scelte di politica poi europea diverse non importa però ripeto un po' di consapevolezza potrebbe focalizzare finalizzare orientare diversamente l'attribuzione di quelli che ormai post 2027 saranno i nuovi interventi i nuove risorse ed è un primo parterre perché giustamente le regioni hanno un ruolo nella fase di programmazione poi dal punto di vista della gestione lei mi provocava io qua come dire altro elemento Giuseppe giustamente è preoccupato dei passaggi in conferenza Stato-Regioni al di là che i passaggi di ogni provvedimento in conferenza Stato-Regioni hanno un inizio hanno una fine e molto spesso come dire i ritardi si accumulano nei vari passaggi e non vado oltre nei dettagli che sono da meri e biechi burocrati però detto questo mi chiedo stante la forte tecnicalità che hanno questi strumenti è necessario passare ogni anno in conferenza Stato-Regioni per determinati aspetti far passare un decreto ministeriale che disciplina certi aspetti o non potremo far passare una metodologia che poi viene applicata automaticamente dal soggetto depositario Agricat Agea non lo so chi l'ufficio del ministero del dottor Serra Bellini qualcuno che con speditezza e tempestività già all'inizio dell'anno dice è così stop quest'anno è così senza fare una tiritera in cui poi è ovvio che anche il più diligente e il più responsabile coscienzioso degli assessori perché lì ci sono i tecnici ma ci sono gli assessori gli assessori scusate è tirato per la giacca perché vive un dramma localizzato perché è stato particolarmente colpito in una parte del suo territorio cerca di orientare allora dico probabilmente ci sono degli aspetti che merita vadano a questo tipo di negoziazione che però ha bisogno dei suoi tempi io non dico che quello che può sembrare a ritardo cioè il tempo non è sempre sinonimo di negligenza attenzione però dico probabilmente ci sono dei tecnicismi che se sottraiamo a un iter perché proprio di altri aspetti fa vivere meglio la gente lo dico consapevole di cosa vuol dire allungare i tempi perché poi i consorzi di difesa lo sanno bene cosa vuol dire indebitarsi per i soci perché non arrivano in tempo utile e quindi è tutta una catena quindi altra cosa che si può fare come suggerimento da regione io dico questo verifichiamo bene perché rispetto a tutta questa tecnicalità forse qualcosa potrebbe essere potremmo inventare migliorare il percorso non lo so ripeto io non sono esperto della gestione del rischio esperto del 102 però dico questo perché vedo anch'io con Patema ogni volta che una cosa deve passare per la conferenza per la conferenza di regioni poi la mia regione come sa ma come anche altre sono otto in Italia mi sembra nove se non mi ricordo più all'esperienza del proprio organismo pagatore e rispetto a questo fatto ha maturato negli anni sia negli uffici regionali in senso stretto che dipendono dall'aggiunta o negli organismi pagatori dove hanno ricevuto anche funzioni aggiuntive non solo per la gestione degli aiuti e i controlli sui pagamenti ma anche per altre cose e lo dicevo prima abbiamo tutta una dimestichezza con la gestione di migliaia di domande adesso quest'anno credo non so i colleghi ma penso che se non sono i numeri che cito io come esempio del Veneto sono di più il lorio e noi in Veneto solo quest'anno abbiamo a parte lascio stare le 45.000 domande o libretti UMA ma i nostri uffici gestiscono solo per lo sviluppo rurale credo stiamo parliamo di chiudiamo l'anno con 15 o 17.000 domande che vengono istruite e i tempi di risposta sono quattro mesi i pagamenti sono ormai un mese compresi il tempo dei controlli in loco quindi tutta questa esperienza qua a me dispiace quando talvolta la vedo svilita in un approccio quasi di diffidenza il PNRR nell'emblema è stato pensato come se le regioni fossero degli snodi di rallentamento della gestione mi fa piacere che alla verifica si sta registrando ma non faccio polemica non entro su terreni che non sono i miei si sta registrando che la gestione di una procedura è complessa e richiede una come dire delle skills delle abilità specifiche delle conoscenze che non puoi improvvisare se improvvisi sicuramente la volta dopo hai più esperienza ma intanto è passato un ciclo lo dico anche su questo rispetto a un sistema che è molto complesso attenzione perché non so cosa in quale aspetto però attenzione perché le regioni sono ripeto sul territorio le regioni non è che sono brave perché sono sante no le regioni sono brave perché un agricoltore da Polesella che è l'ultimo comune a confine sul Po e di là si saluta con gli amici ferraresi se ha qualcosa da recriminare di un ufficio regionale prende l'auto e in tre quarti d'ora è o a Padova o Mestre dove hanno sede gli uffici se non è soddisfatto della risposta degli uffici continua con l'autobus e va a bussare alla porta dell'assessore del presidente e quindi dico questo è lo stimolo e vale in Veneto ma vale nel Lazio vale nelle Marche perché siamo umani è lo stimolo non c'è chissà che genialata qua è lo stimolo però che come dire col tempo magari ci sono più inerzie culture un po' diverse più riflessive altre più impulsive ma comunque rendono efficaci per questo dico che rispetto a una gestione magari più centralizzata si corre il rischio che la gestione centralizzata non abbia non riesca a cogliere rispetto a queste esperienze tutti quei piccoli espedienti o grandi che possono velocizzare il procedimento che lo possono efficientare nel rispetto della piena efficacia che deve comunque garantire per tutti gli interessati grazie andiamo nelle Marche torniamo nelle Marche dove abbiamo riusciato un po' il discorso aperto su altri stimoli però ne abbiamo raccolti nel percorso adesso dal Veneto e dal Lazio anche perché poi c'è come dire quella di far crescere anche quella che potremmo definire una capacity building dell'impresa ma forse anche una capacity building anche dell'istituzione quindi un lavoro sul territorio per l'uso di questi strumenti perché ce lo diceva prima il suo collega del Veneto per tradizione ma più che per tradizione proprio per uso per molto tempo si è capito che uno strumento era efficace in un modo in determinati contesti altri no adesso è tutto cambiato però forse bisogna fare un salto in avanti cosa state facendo o cosa potreste fare anche perché ogni soluzione che mettete in campo ogni regione è una soluzione che si offre sul tavolo e faremo quello che in gergo qualcuno chiama trasferimento tecnologico o comunque dei saperi guarda su sull'aspetto del sull'aspetto del dei sistemi diciamo assicurativi e quelli relativi al nuovo strumento che io saluto con favore insomma anche se la prospettiva finanziaria quello di Acricat non è stata diciamo così non è partito sicuramente con un grosso budget economico soprattutto con gli eventi che si sono subito succeduti però e quindi diciamo il DL61 ha dovuto rafforzare questo aspetto finanziario per diciamo affrontare il problema Emilia Romagna o meglio l'alluvione della Romagna però secondo me è un nel quadro generale degli elementi diciamo che compongono il puzzle è stata una idea secondo me è ben riuscita adesso magari non dovrà fermarsi qui ma dovrà diciamo svilupparsi e forse anche potenziarsi dal punto di vista finanziario perché riuscire a dare il 10-15% quando c'è un danno vero da siccità 10-15% dicevamo delle spese sostenute per impiantare quella determinata cultura non stiamo parlando del danno generale è poca cosa però è uno strumento molto interessante secondo me anche diciamo si sta sviluppando bene dal punto di vista tecnologico noi abbiamo come Marche eseguito appunto la modalità di delimitazione grafica che ci ha imposto col DL61 dove AGEA ci ha seguito praticamente ci ha istruito su come arrivare in fondo sia fornendoci i layers cioè le mappe di diciamo così di alluvione statica diciamo così quella dovuta proprio alla permanenza dell'acqua perché era un dato abbastanza assodato il satellite riesce a percepire la rifrazione quello radar riesce a percepire esattamente la rifrazione quindi diciamo è un dato abbastanza sicuro ma ci ha aiutato anche a costruire e devo dire anche molto interessante tutta l'area di collina dove c'erano le erosioni dove non c'erano tutti quei problemi di frana che da noi chiaramente erano pochi in Emilia Romagna erano veramente vasti ma con un'app semplicissima che sia a monitor sia a desktop sia a cellulare ci ha consentito di perfezionare il quadro il mosaico degli eventi danneggiati sulle culture parlo di danno alle produzioni vegetali tutti gli altri danni sono stati diciamo ordinariamente hanno seguito la strada del 102 quindi diciamo che cosa facciamo a livello di strumenti regionali il complemento di sviluppo rurale noi diciamo veniamo da un'esperienza anche se vogliamo del PSR 1422 un po' più ricca perché avevamo avuto una dotazione finanziaria suppletiva legata al sisma del 2016 che non è stato facile spendere perché non basta dare da bere al cavallo se il cavallo non ha sete come dicono no quelli più forbidi di noi e quindi diciamo anche dare le soldi erano soldi per le imprese quindi abbiamo cercato bandi su bandi per far ripristinare l'attività agricola o anche nei territori colpiti quindi non solo chi era stato danneggiato dal terremoto ma a distanza di anni non sempre tutti gli impegni finanziari sono venuti a scadenza in maniera ordinata quindi abbiamo avuto una notevole diciamo mortalità poi mettiamoci il covid l'aumento dei prezzi legati alla guerra e non e alle speculazioni e quindi tutto questo non ha sempre reso fai però ci siamo permessi con quel bagaglio finanziario di poter esercitarci in qualcosa di nuovo secondo me anche abbastanza interessante che sono stati gli accordi agroambientali d'aria per la tutela del suolo diciamo un complesso di misura pacchetto che ha consentito sia l'intervento puntuale magari su un corso d'acqua piuttosto che su una area che diciamo così franava o che aveva dei problemi critici sia anche sulla viabilità che nelle marche diciamo maggior parte della viabilità rurale corre a mezza costa quindi subisce tutti gli effetti dissesti ma anche diciamo legare pubblico e privato gli agricoltori e i comuni e le province che diciamo hanno competenza sui corsi d'acqua o sul diciamo così sull'esercizio di stimolare i civili le imprese agricole misure di informazione formative in maniera a dare che quello che si andava a ripristinare o diciamo a costruire per risolvere o per attenuare il problema e la criticità poi nel tempo fosse mantenuto ora bene questo è stata un'esperienza faticosa diciamo noi siamo partiti con una proprio un'annovazione insomma ecco per noi quindi abbiamo avuto tutti anche gli difetti di questa situazione qui la difficoltà di trovare il feedback da parte degli enti pubblici perché abbiamo messo a capo fila i comuni forse non è proprio il loro mestiere non sempre il loro mestiere la risposta degli agricoltori la risposta degli enti però abbiamo capito che man mano che gli anni correvano che la ripetizione dei bandi andava avanti alla fine diciamo avevamo più interlocutori diciamo preparati su questo aspetto e interessati a portarlo avanti è stato faticoso sono programmi che probabilmente ci hanno portato via molto tempo non sono sicuramente quelli che fanno raggiungere gli obiettivi finanziari del FEAST però è stata una idea secondo me carina che non possiamo ripetere nel nuovo programma del sviluppo plurale appunto perché le disponibilità finanziarie poi necessariamente devono trovare le soluzioni per tutte quelle che sono le aspettative che ormai si sono consolidate anche sul territorio dai gall fino ai giovani che nelle marche sono proprio un problema tavico cioè noi abbiamo un ricambio lentissimo e bassissimo per cui dobbiamo finanziare questo aspetto qui in maniera e non sempre abbiamo i risultati che vorremmo e oltre lo sviluppo delle imprese agricole quindi diciamo i soldi non riusciamo a utilizzarli per tutti ci siamo dedicati alcune prevenzioni di tipo un po' più facile se vogliamo quella sulla siccità quindi abbiamo stimolato ad esempio nei pascoli di montagna la creazione di miglioramento diciamo dei fontanili esistenti o la costituzione di laghetti per venire incontro a quelle che sono le difficoltà dei pascoli tenete conto che il sisma del 2016 in alcune aree ha creato anche un cambio dell'idrologia del sistema quindi ci sono stati fontanili che non hanno dato più acqua quindi le difficoltà sono state diverse ci siamo dedicati molto di più 23-27 a diciamo così a ridurre il consumo dell'acqua migliorando le infrastrutture agricole noi non abbiamo un grosso territorio irrigato le mappe sono vallate a pettine che vanno verso il mare e abbiamo in alcune situazioni 5-6 laghi diciamo importanti per l'irrigazione anche l'itropotabile e anche la laminazione delle piene che diciamo poi a valle di fatto consentono l'utilizzazione dell'acqua per l'irrigazione e quindi abbiamo investito lì perché il problema della siccità è sicuramente uno di quelli che interverrà e lo abbiamo visto l'abbiamo toccato con mano ma storicamente le marche sono in una fascia di territorio che ci accomuna la Sicilia e quindi dobbiamo diciamo tenerne conto e andare a focalizzare i nostri aiuti soprattutto su questi aspetti qui compreso anche le imprese anche gli interventi dell'SRD01 sono legati molto all'acqua quindi a migliorare la conservazione dell'acqua il mantenimento dell'acqua che arriva e a diminuire lo spreco poi abbiamo dei problemi biotici ma questi ormai potrebbero essere anche comuni abbiamo fatto una piccola prevenzione con l'SRD06 sulla PSA perché abbiamo diversi allevamenti semiprati e insomma rappresentano in prevenzione rappresentano qualcosa da conservare perché ci consente di avere un prodotto di qualità che è magari il suino della marca su cui si stanno diciamo attivando filiere eccetera eccetera e allo stesso tempo diciamo dobbiamo conservare un patrimonio di know-how di queste imprese che anche giovani che si leggono questa attività quindi lì abbiamo dedicato alcune risorse in più rispetto al programma classico che forse tutti facciamo abbiamo anche noi la misura quella sull'ex post e sulla prevenzione della calamità ma anche lì dicevamo come la scorsa programmazione abbiamo messo un chip giusto per dire se succede qualcosa di gravissimo possiamo aprire la misura torniamo torniamo a Lazio prima di avviarci verso una conclusione siamo stati tutti molto bravi anche da prima parte devono stare sui tempi analizziamo di nuovo la situazione del Lazio sapendo che è un territorio diverso ancora forse anche culturalmente diverso perché poi le realtà che si trovano degli agricoltori la risposta la risposta del territorio ha leggiato durante tutta la mattinata questo aspetto della cultura del rischio noi l'abbiamo interpretato sotto l'aspetto finanziario e istituzionale in realtà noi come italiani abbiamo una cultura del rischio assente ce l'abbiamo avuta sui territori dei terremoti a livello nazionale continuiamo ad averla sui rischi alluvionali sul dissesto idrogeologico eccetera probabilmente le misure di cui stiamo parlando come dire mettono qualcosa perché non se ne può più fare a meno perché la frequenza di questi eventi ormai è tale che se non c'è la cultura dobbiamo provvedere in un altro modo ma quale altro modo per la regione Lazio ma io su questo intanto una riflessione una regione dovrebbe come compito istituzionale essenzialmente fare programmazione pianificazione e controllo sulla programmazione delle politiche agricole noi spesso abbiamo come dire ci siamo appoggiati fortemente a quello che veniva a livello centrale quindi sostanzialmente negli anni precedenti da Bruxelles io vedo che c'è un po' di stanchezza parlo della mia regione cioè che ci siamo un po' adeguati a dei modelli particolari di piani di sviluppo rurale magari ideati pensati o più di vent'anni fa e poi un po' andati avanti col sistema copia e colla per cui il piano di sviluppo rurale anche complemento rischia di essere e di svolgere soltanto una funzione erogativa e quindi è come se poi l'agricoltore si affida un po' passivamente a questo strumento noi intanto nel Lazio abbiamo fatto una cosa secondo me importante e innovativa con la nostra direzione con i colleghi stiamo facendo piano agricolo regionale cioè stiamo ristudiando il nostro territorio per capire quali sono le aree evocate in cosa sono vocate un po' la distribuzione come in un'evoluzione velocissima perché i tempi corrono veloci pensiamo alla digitalizzazione e quali sono le caratteristiche del nostro territorio perché noi abbiamo un'area viderbesia a forte trazione della nocciolicoltura abbiamo l'ortofrutta latina la zona di Roma prevalentemente seminativi e un po' misto riedi e frosino quindi una diversificazione all'interno ma poi c'è la sovrapposizione a tutto il tema dell'energia dell'agroenergia fotovoltaico queste sovrapposizioni vanno studiate nei territori poi la tempesta vaia del 2018 ci ha insegnato anche che non ci sono zone immuni cioè riguarda tutta Italia in alcune zone i fenomeni diciamo delle calamità sono ricorrenti per cui bisogna studiare va tutto studiato nel complesso anche in termini regionali perché la provincia di Latina ha un rischio diverso da quella sicuramente di Riedi o dell'altra provincia quindi c'è tutto un tema e intanto bisogna riequilibrare forse all'interno credo degli assessorati parlo delle direzioni in termini proprio dei risorsi umani cioè noi abbiamo truppe cammellate sul piano di sviluppo rurale e poi rischiamo di lasciare scoperti uffici strategici come appunto la gestione del rischio o altri aspetti parlo delle bonifiche che tenere i canali puliti è anche quello fondamentale perché poi arriva l'alluvione che non ti dà la seconda possibilità quindi è tutto un lavoro di prevenzione che non c'hai la fase 2 non c'hai il piano B c'è solo il piano A quindi su quello c'è tutto un lavoro fondamentale da fare io ripeto sicuramente credo che la tecnologia sul sistema previsionale ci sono gli strumenti che dobbiamo fare il lavoro sinergico quello che ho detto prima molto sull'aspetto previsionale coinvolgendo anche altri parti dell'università coinvolgendo la protezione civile un po' tutti ripeto abbiamo detto tutti quelli che tengono ciascuno i dati per sé ma qui ci salviamo tutti insieme non ci salviamo da soli grazie io tra l'altro vorrei salutare in sala c'è la dottoressa Angelini responsabile dell'autorità di gestione del PSRN anzi grazie io forse vorrei rubare no io avrei voluto rubarle come dire soltanto una battuta vorrei invitarla qui con noi semplicemente per avere come dire anche la voce dello stesso una conclusione se ne ha voglia noi ne avremmo sicuramente piacere allora non so se è acceso se è acceso vorrebbe essere se è acceso un salto della lucetta lo è vediamo colpettino sì sì allora a parte una battuta aspetta aspetta è da sotto perché accendeva no sì allora grazie ma sì in realtà anche se non ho preparato nulla perché oggi insomma c'era un parterre molto ricco e giustamente è stata sottolineata il ruolo non solo come nuova autorità di gestione del dottor Blasi ma insomma la competenza la veramente le fondamenta a mio modo di vedere proprio dello sviluppo rurale quindi giustamente insomma il parterre oggi era molto molto ricco l'idea di fare questo evento nasceva sempre in realtà come un evento che doveva essere un po' formativo perché anche parlando con colleghi regionali avevo percepito che soprattutto su un nuovo strumento del fondo catastrofale c'era poca cognizione poca conoscenza quindi mentre mi sento di dire che sul programma nazionale sviluppo rurale una parte di comunicazione è stata fatta quindi certamente possiamo migliorare e probabilmente nel paese siciliano o in qualche territorio sicuramente il messaggio della necessità di assicurarsi non è stato colto e quindi raccogliamo volentieri diciamo un messaggio di attivare ancora di più strumenti di comunicazione certamente sul fondo catastrofale anche su indicazione proprio che abbiamo ricevuto e accolto da alcuni colleghi delle organizzazioni professionali che fanno parte della commissione della gestione dei rischi ministeriali e quindi avevamo pensato prima in realtà come un evento più formativo ma si è trasformato in un importante evento di proprio scambio di idee di spunti che sicuramente raccogliamo e anche di questa sensazione che stranamente io non avevo mai colto di estranità rispetto a quello che è il mondo dello sviluppo rurale e quindi dei colleghi regionali rispetto appunto alla gestione del rischio e agli vari strumenti che sono stati messi in campo prima col programma nazionale e poi adesso sul piano strategico della PAC quindi commentavo ora con Mauro Sellabellini e appunto non so chi di voi proprio ha ci ha marcato la differenza anche nell'ambito dell'organizzazione regionale tra quelli che sono gli uffici che si occupano della programmazione dei fondi regionali sullo sviluppo rurale fondi FEAS e quello che è invece il collega che si occupa della gestione del rischio che è diciamo dove c'è una separazione e una non comunicazione è evidente che se noi vogliamo andare incontro a quello che ha detto il collega Contarin che sempre ringrazio perché sempre partecipa ai nostri eventi con un'importante competenza e veramente insomma ci porta sempre spunti nuovi ma anche i colleghi della regione Lazio Gramiccio e Fermanelli e Regione Marche che hanno partecipato questa mattina a questo incontro è evidente che se noi vogliamo fare sinergia tra la politica di sviluppo rurale che viene attuata a livello regionale con una conoscenza del territorio dell'esigenza territoriale che a livello nazionale poi viene percepita probabilmente con meno sicuramente con meno immediatezza e anche all'interno probabilmente l'organizzazione regionale ci deve essere un maggiore scambio quindi il pensare poi che nel proprio complemento di programmazione vengano messi dei criteri e dei punteggi premiali a diciamo coloro l'impresa che attivamente si comunque pensa a difendere la propria produzione per quello che è un rischio di un evento climatico avverso e ci siamo detti più volte ormai sempre più frequente necessita uno scambio di informazione e comunicazione a partire appunto dal territorio dall'organizzazione regionale così come al nostro interno cerchiamo di mettere in sinergia i nostri uffici che anche da noi sono separati quindi anche perché come abbiamo detto la gestione del rischio è effettivamente un argomento estremamente tecnico voglio dire che adesso nell'ambito della conversione di un decreto legge mi sfugge il numero però siamo è un decreto legge quello su misure per facilitare le grandi imprese le utenze stanno e che ha un articolo che è diciamo proprio dedicata a quello che è il rischio a quello che sono le nuove patologie oppure vecchie patologie che si sono fitopatie che si sono ripresentate rispetto a cui si diceva ci siamo fatti cogliere impreparati come la peronospora girano stanno girando degli emendamenti di parte politica in cui proprio si vuole introdurre un concetto di premialità rispetto fermo restando la complessità di un tipo di controllo che dovrebbe essere messo in campo però sono stati presentati degli emendamenti in cui si dà una premialità si introduce proprio l'idea di premialità per coloro che comunque sono stati colpiti da un evento in questo caso una fitopatia ma avevano messo in campo delle misure teoricamente efficaci ma che poi per qualche motivo non si sono rivelate efficaci quindi che è un'idea che va in contrasto anche qui mi prometto di dire oggi non è stato citato ma ovviamente non la discuto con quell'idea che comunque c'è uno strumento assicurativo però poi quando avviene l'avvestità atmosferica ci sono sempre qualsiasi legislatura norme che vanno in deroga quindi e che consentono quindi anche a coloro che non sono assicurati comunque un ristoro perché giustamente poi parliamo di imprese parliamo di veramente di famiglie quindi insomma non chiaramente nessuno si tira indietro a maggior ragione la politica e il legislatore quindi io avrei finito da parte nostra sicuramente questo non è nel primo nell'ultimo degli eventi è credo l'ultimo del programma nazionale di sviluppo rurale ma adesso c'è tutta la parte di comunicazione che metteremo in campo sul piano strategico ringrazio partecipanti spero che anche per coloro che hanno ascoltato in streaming sia diciamo stata un'occasione di riflessione naturalmente siamo aperti sempre ai suggerimenti dei colleghi regionali che nuovamente ringrazio per la partecipazione grazie grazie infinito delle sue parole e della sua parte di anticipazione grazie a Franco Contarin Gianni Fermanelli Paolo Graviccia ma anche chi è intervenuto prima Blasi Giarola Carfi e il commissario Proietti grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito sia in sala che da casa grazie a tutto il personale tecnico che ha consentito la realizzazione di tutto questo grazie ancora e buon pomeriggio grazie 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 anche delle domande che mi avete non va a niente scusiamo grazie ciao scusate ciao ciao grazie 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 grazie